presente Giacomino assente giustificato Leonardo presente Zanello Brignolo presente Cipriano presente Gemello assente giustificato Balti Bosio presente Sciuto presente Oliva può ritardare o non arrivare del tutto ma sarebbe assente giustificato anche lui Albrile presente Martino Gaeta presente Mazza assente giustificato Genri ha comunicato che ritarderà il numero legale c'è dichiaro aperta la seduta ma prima di iniziare i lavori in memorio di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza vi chiedo un minuto di rumore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti possiamo iniziare col primo punto l'ordine del giorno che riguarda le interrogazioni sono pervenute cinque interrogazioni da parte del gruppo consigliare obiettivo alpignano la prima riguarda il poliambulatorio ASL presumo il consigliere Albrile ne può dare lettura ok grazie poliambulatorio ASL TOTRE MOVICENTRO i sottoscritti consiglieri comunali Andrea Oliva e Sandro Albrile interrogano il sindaco e l'assessore competente per conoscere le motivazioni del fermo lavori di adeguamento dei locali del movicentro concesse all'ASL TOTRE per il poliambulatorio 2 quando saranno riattivati tutti i servizi del poliambulatorio che prima della chiusura erano presenti presso la struttura di via Philips grazie risponde il sindaco Steve ben premiere grazie presidente buonasera a tutte e a tutti ai presenti in sala a chi ci segue da da casa Sandro era eh l'interrogazione che l'altra volta non siamo riusciti a rispondere per per tempo avevo poi fatto una comunicazione agganciandomi anche alla vostra interrogazione lo ribadiamo le motivazioni del fermo dei lavori di adeguamento è dettato dal fatto che eh c'è stato il il fallimento la dichiarazione di di fallimento da parte della ditta appaltatrice selezionata dal dal ASL nel lontano duemila e ventuno questo fermo eh si è protratto a partire dal mese di maggio del duemila e ventitré e ancora tuttora persiste nel negli incontri che abbiamo avuto con con l'ASL a seguito poi anche dopo l'ultimo consiglio comunale per avere ulteriori specifiche perché è raggiunta eh solo ed esclusivamente una comunicazione in maniera formale proprio nel nel pomeriggio ehm e quindi stiamo parlando di settembre sono eh stati quattro gli incontri che ho avuto sia con eh la direzione di distretto e quindi con la dottoressa Maina e poi anche con la direzione generale quindi direttamente la la dottoressa dall'occo alla presenza anche dell'architetto ferro che ehm è il gruppo del del procedimento che sta seguendo il il nostro adeguamento del movicentro a casa di comunità ma insomma anche tante altre attività per gli uffici tecnici dell'ASL. Il fermo per sistema in questo mese hanno fatto la consistenza del delle attività svolte fino in quel momento da progetto da parte del dell'azienda e eh hanno predisposto la la nuova documentazione per la gara perché dovranno affrontare una nuova gara benché d'urgenza ma eh sia la sficonda in graduatoria dal bando precedente che la terza hanno rifiutato perché l'adeguamento delle opere sarebbe stato da doversi eseguire comunque con la stessa scontistica applicata dalla vincitrice e quindi un trentasette per cento di ribasso oggi eh non è ovviamente sostenibile da nessuna azienda. Questo fa scattare comunque eh un allungarsi dei dei tempi nonostante la modalità d'urgenza è stato dichiarato che per gennaio dovrebbe esserci l'impresa assegnataria che riprenderà i i lavori. Eh non mi è stata trasmessa ancora la documentazione della consistenza che hanno rilevato tra le opere fatte e le opere mancanti eh ma da quello che mi è stato riferito non ho il documento tecnico ecco da quello che mi è stato riferito a voce anche dopo gli ultimi sopralluoghi che erano stati condotti a dicembre del del duemila e ventidue eh la parte più ehm la parte mancante era legata alle finiture interne del secondo piano una rivisitazione che doveva essere fatta dello spazio fisioterapico che eh posizionato al piano terreno a lato di quello che è il centro CUP e e prelievi ma stiamo parlando di finitura perché la parte impiantistica che è quella che ovviamente grava di più per fortuna erano state completate ci sarà eh una modifica siamo in attesa questa è la comunicazione della scorsa settimana come amministrazione del progetto eh definitivo esecutivo che è stato approvato dall'ASL sulle nuove sui nuovi parametri che il PNRR ha chiesto a livello di progettazione per la che la casa di comunità che le case di comunità devono avere e quindi in tutto questo iter il cronoprogramma che loro stanno pensando è che il riavvio del il termine dei lavori il termine dei lavori è previsto per eh l'estate del duemila e ventiquattro per andare al punto due invece quando saranno riattivati tutti i servizi del poli ambulatorio contestualmente in questo periodo eh stanno stipulando i vari accordi e stanno cercando le disponibilità dei medici specialistici che potranno riprendere a svolgere le attività all'interno del della nostra casa di comunità questo è stato confermato anche in data del quindici novembre dove siamo stati convocati come tutti i sindaci della zona eh nord del distretto perché dopo tanti anni che non veniva fatto eh e su questo abbiamo ringraziato ovviamente anche la dottoressa Maina per l'impegno profuso è stato presentato il documento PAT duemila e ventiquattro un documento di programmazione delle attività territoriali sanitarie all'interno del quale eh vengono riproposte anche l'avvio della nostra casa di comunità con i vari servizi di specialistica eh è noto insomma non ci sarà più la radiologia rispetto ai servizi eh precedenti ma questo già nel riassetto di tutte quelle che sono eh le case di comunità gli ospedali di comunità e quindi i servizi che verranno eh effettuati rispetto alla al nostro centro benché eh un po' di sollievo ce l'abbiamo perché nell'ambito del PNRR sono sanziati dei fondi anche per l'acquisto di macchinari quindi potrebbe essere eh invece potenziato di più attraverso l'acquisto di un macchinario che è stato fatto ehm con una strumentazione differente ovviamente non arriveremo alla radiologia ma tutto quello che è il discorso ehm ecocardiografie e via discorrendo. Per quanto riguarda eh gli altri servizi che riguardano invece di più il progetto di case di comunità a intendersi eh tutti i progetti invece che eh hanno sono nello spirito della casa di comunità quindi il i progetti che hanno a che fare con le malattie croniche eh quello è un progetto che è in avvio con i medici di medicina generale territoriali non solo legati ovviamente alla nostra alla nostra unità che riguarda contemporaneamente il comune di di Alpiniano e di e di Val della Torre ma anche a tutti gli altri medici di medicina generale che sono presenti sul sul territorio e che secondo poi un programma specifico insomma che che avranno presteranno la loro attività all'interno della della casa di comunità. Grazie eh la parola al consigliere Sì questa interrogazione era stata presentata al consiglio comunale di fine settembre avevamo già avuto anche se non era passata perché non c'era più eh eravamo eravamo andati oltre le due ore c'era stata comunque data una risposta dal sindaco nelle comunicazioni e per gentile concessione del presidente del consiglio il consigliere Oliva aveva potuto contro rispondere se non erro infatti ci eravamo detti vabbè la ritiriamo visto che abbiamo già avuto risposta poi abbiamo appreso da dai dai video sui social che il sindaco avrebbe eh si si era preso l'incarico di relazionare ogni quindici giorni sullo stato di avanzamento lavori non abbiamo visto mi sono sfuggite gli aggiornamenti ogni quindici giorni quindi abbiamo deciso di mantenere questa questa interrogazione eh vedo che i tempi sono lunghi capisco i problemi relativi al fallimento di una dita che fa un ribasso che sarebbe non avrebbero neanche dovuto accettare ma comunque a parte questo eh si parla di quindi fine dei lavori più o meno cioè inizio di nove dei lavori a gennaio con fine nell'estate quindi si parla di riapertura settembre ottobre ecco nel frattempo c'è un inverno di mezzo mi risulta che non ci sia una vera e propria sala d'aspetto di conseguenza la gente sia costretta ad aspettare fuori si potrebbe almeno ovviare a questo per limitare un po' i disagi eh la risposta è stata dettagliata sono contento anche se nel merito ovviamente non sono contento del del fatto che la non sia ancora aperta grazie grazie passiamo alla seconda interrogazione avente per oggetto polo emergenziale la parola torna al consigliere albrile polo emergenziale i sottoscritti di consiglieri comunali andrea oliva e andro alberile interago nel sindaco e l'assessore competente per conoscere uno destinazione d'uso e suddivisione degli spazi della struttura secondo l'ultimo atto provato si richiede descrizione verbale del numero di locali dimensioni e tipologia di utilizzo due se nel prossimo bilancio di previsione triennale saranno inseriti gli importi per la gestione e manutenzione dello stesso per l'anno duemilaventisei tre se sono già stati prodotti e atti per l'affidamento degli spazi ai vigili del fuoco quattro se sono stati prodotti atti per l'affidamento degli spazi ad un'associazione di pubblica assistenza grazie grazie risponde il sindaco posso provare a darti le superfici per macro o vuoi proprio ok dunque destinazione d'uso e suddivisione degli spazi della struttura è stato definito uno spazio dedicato alla parte di protezione civile con una sua auto rimessa e un magazzino dedicato la struttura è su due piani un piano terra e un piano primo e per quanto riguarda questo il piano terra con l'auto rimessa mentre al piano primo sono stati allocati i servizi che hanno a che fare con un ulteriore magazzino la sala riunioni e dei dei servizi ci sono delle aree che poi verranno ricavate come open space tra quella che è una possibile zona relax sempre al piano primo la protezione civile avrà un suo ingresso separato al piano terra il tutto questo per uno sviluppo al piano primo comprensivo dei corridoi degli spazi delle scale di 125 metri quadrati al piano terra invece abbiamo il box magazzino di 34 metri quadrati e poi c'è il volume del corpo scala al piano terra che cuba per altri 20 metri quadrati il volume di questo di questo corpo scala si prolunga fino alla sommità del del tetto che risulterà essere calpestabile e quindi l'accesso per la monoponenzione poi del degli impianti che verranno allocati sul sul sulla copertura e in modo particolare per la parte di pannelli fotovoltaici che verrà installata i vani scala sono tutti dotati anche di ascensore al suo interno l'altra funzione che è stata allocata è quella della dei vigili del fuoco stiamo parlando di una manica totale che dal punto di vista architettonico ha una distribuzione ad elle per quanto riguarda il piano terra comprensive ovviamente delle auto rimesse più quelle che identificate come le zone abbiamo 383 metri quadrati e di pari passo sul piano primo per quanto riguarda invece la pubblica assistenza eh a meno spazio a livello di box utilizzati al piano terra benché siano sempre quattro le le destinazioni rispetto a quello di vigili del fuoco perché è allocato anche il box dei mezzi della della protezione civile eh siamo a duecento e sessanta metri quadrati sul piano per l'emergenza sanitaria al piano primo abbiamo invece duecento diciassette metri quadrati per l'emergenza sanitaria perché al piano primo troviamo eh allocato un locale in condivisione tra tutte quelle che sono le associazioni che saranno presenti all'interno della struttura ma non solo anche aperto poi ad altre associazioni del territorio di una sala polivalente questa sala polivalente uba ad oggi metro metro più metro meno cento e dodici metri quadrati con una capienza che eh dovrebbe permetterci di arrivare tranquillamente ai novantanove posti quindi un'altra sala eventualmente utilizzabile non solo nel perimetro del polio emergenziale ovviamente gestita con eh un suo ingresso eh a parte passando proprio dal vano scala addibito all'esclusività della protezione civile quindi senza andare a inficiare su quelle che sono le attività dell'emergenza della pubblica assistenza o eh dei vigili del fuoco e che di conseguenza potrà avere una sua gestione eh anche in autonomia benché all'interno del del complesso. Per quanto riguarda nel prossimo bilancio di previsione triennale importi dedicati alla gestione e manutenzione dello stesso nell'anno duemila e ventisei come voci dedicate non non ci sono occuperanno eh nell'eventualità all'interno di quelle che sono le voci per le manutenzioni del del patrimonio immobiliare ma in modo particolare eh sia per quanto riguarda il discorso oggi dei vigili del fuoco con il quale abbiamo già sottoscritto se vi ricordate nel duemila ventuno un accordo direttamente con il comando di Torino ma eh e sarà poi oggetto anche di quello che è il discorso della pubblica assistenza questo tipo di manutenzioni saranno in carico ovviamente alle associazioni che eh vi eh allocheranno ovviamente eh per millesimi di proprietà ci sarà poi la quota parte degli spazi della protezione civile che invece sono a carico del comune così come il discorso della sala polivalente che rimane in capo all'ente. Il punto tre insomma per quanto riguarda gli spazi eh dedicati ai vigili del fuoco è già stato prodotto il patto di intesa e poi si andrà ad affinare insomma l'assegnazione ad avvenuto termine dei dei lavori o comunque contestuale per quanto riguarda la pubblica assistenza invece dovremo uscire ovviamente con con un bando di assegnazione secondo quelle che saranno le modalità previste eh anche a a fronte della modifica del del contratto del degli appalti nell'ambito di quelle che sono le concessioni piano terra box più una parte giorno mettiamola così e in linea di massima al piano primo trovano gli spazi le zone notte o uffici grazie la parola consigliere albile sì l'interrogazione era molto semplice volevamo soltanto apprendere queste notizie più che tutti i punti tre o quattro sono soddisfatto della risposta grazie grazie passiamo alla terza interrogazione avente per oggetto opere compensazione edison per la sistemazione del parco comunale aldomoro prego consigliere aprile allora permesso che con deliberazione del consiglio comunale numero 64 del 22 dicembre 2021 è stata approvata la convenzione urbanistica riguardante le condizioni di mitigazione e compensazione ambientale di viabilità e opere di urbanizzazione connesse all'intervento di realizzazione da parte di edison teleriscaldamento srl della centrale di teleriscaldamento nel comune alpignano via venariga considerato che detta convenzione l'articolo 5 descrive le opere di compensazione che la società edison teleriscaldamento srl si impegna a realizzare la propria spesa fino ad importo di 200 mila euro per la sistemazione del parco comunale aldomoro considerato che il progetto contempla prioritariamente le seguenti opere uno in un impianto di videoserviglianza a copertura dell'intera estensione del parco due una recinzione con parapetti e pannelli di tipo rigido lungo il perimetro confinante con la sponda del fiume d'ora dall'impatto visivo decoroso e sostenibile tre forniture posenopera di due strutture multifunzionali per lo sport preferibilmente calcetto pallavolo palacanestro comprensive delle illuminazioni e di reti o parte d'accesso al singolo campo o paratie pardon quattro adeguamento impiantistico e recupero edilizio del manufatto presente nel parco per futuro utilizzo come chiosco lo scopo sociale di intervento definito nella formula della sua futura gestione che avverrà senza scopo di lucro da parte di associazioni del territorio cinque forniture posa di punti di ricarica per bici elettriche monopattini elettrici nei punti a est ed ovest e centrali del parco presso la nuova cabina enel sei forniture posa di giochi inclusivi adeguati alla normativa per diversamenti abili e soggetti fragili a completamento dell'area in sostituzione di quelli ammalorati e danneggiati presenti sette sostituzione della pavimentazione anti shock usurata presso i nuovi giochi inclusivi che verranno installati otto forniture posa di due tavoli da ping pong nove ripristino e messa in funzione del campo da bocce esistente dieci campo da beach volley con relativa illuminazione e reti o paratie d'accesso undici forniture posa dieci panchine dodici forniture posa di due fontanelle anche fruibili da persone in carrozzina compresa la realizzazione della rete d'approvvigionamento tredici installazioni di tavoli da ping nix fruibile anche da persone diversamente abili dopo dato che la stessa società sia impegnata ad elaborare il progetto per dette opere di sistemazione del parco e che tale progetto doveva essere verificato ed approvato dal comune come recita l'articolo 5 e che compatibilmente con i tempi necessari per la presentazione e l'approvazione da parte del comune il proponente si impegna ad eseguire le opere di compensazione di cui al presente articolo che sarebbe l'articolo 5 della convenzione indicativamente entro il 31 12 2023 visto che la data di presentazione della presente interrogazione non risulta eseguita al parco aldomoro nessuna delle suddette opere di compensazione i sottoscritti consiglieri comunali andrea oliva sandroville interrogano sindaco e la giunta per conoscere uno la data entro la quale verranno eseguite collaudate le opere di compensazione le motivazioni per cui non verrà rispettata la data del 31 12 2023 per il completamento delle opere 3 se e quando sono stati presentati i progetti da parte della società edison tele riscaldamento srl 4 se e quando sono stati approvati dal comune grazie la parola torna al sindaco allora la data entro l'acqua le verranno eseguite con le date le opere di compensazione con edison abbiamo già ritarato e mi aggancio al punto 2 nell'arco del 2024 in modo tale che il parco possa avere il suo nuovo splendore le motivazioni del ritardo perché quando abbiamo iniziato a interloquire con i professionisti che sono stati incaricati da edison per l'adeguamento sono arrivati i progetti a settembre del 2022 nel pieno momento ovviamente di rincaro dei materiali a fronte delle richieste come è stato letto prima all'interno dell'articolo 5 della convenzione che noi abbiamo messo non obbligatorio ma ovviamente dando un ordine di priorità a quella che la nostra progettazione loro sono partiti con una progettazione di tutto quello che i nostri desiderata prevedevano siamo arrivati a un quadro che va a superare i 400 e rotti mila euro 490 mila euro in parte sicuramente legato da quello che è il discorso dell'aumento dei materiali in parte ovviamente perché tutte le richieste non possono essere ovviamente esaudite con quel budget abbiamo iniziato un'interlocuzione nell'arco di quest'anno fine 2022 inizio 2023 di conseguenza per andare a ritarare un attimo il progetto non era ancora il momento però con il nuovo listino prezzi adeguato attendavamo quello del 2023 sicuramente questi saranno anche mesi in cui andremo a definire il budget o più che il budget le opere che potranno essere realizzate con quel budget Edison già l'anno scorso si era impegnata comunque a mettere agli atti una fideiussione specifica per le opere compensative per la copertura della mancata realizzazione fino a quando le stesse non verranno realizzate e quindi poi in scadenza e con la realizzazione delle stesse la fideiussione verrà ovviamente rilasciata nuovamente all'azienda questo per vincolarci e indicazione che abbiamo raccolto dagli uffici in modo tale da essere tutelati anche dal punto di vista amministrativo non è mai stato messo in dubbio il rimangiarsi della parola anche a fronte della convenzione che è stata sottosiglata ma insomma a tutela ulteriore i progetti il primo progetto è stato presentato il 9 di settembre del 2022 non sono stati ovviamente ancora approvati perché in fase di definizione degli stessi per le motivazioni che ho riportato prima grazie la parola al consigliere albile sì dunque abbiamo riportato tutti i 13 punti eletti perché era abbastanza evidente sin dall'inizio che 200 mila euro non sarebbero mai bastati per realizzare tutte quelle opere è vero che l'appetito vi è mangiando uno mette e mette ed è vero che Edison deve realizzare delle opere a compensazione fino a un importo di 200 mila quindi alcuni di questi punti probabilmente non sarebbero mai stati realizzati caro prezzo o non caro prezzi i tempi si sono dilatati forse un po' troppo perché comunque anche per tutto il prossimo anno ci sarà ugualmente il caro prezzi se vogliamo trovare dei prezzi come erano fino a 4 5 anni fa bisogna aspettare altri 4 5 anni quindi tanto vale me prendere la bastonata e andare avanti non dico mi sembra un po' una scusa però il tempo per fare tutto c'era la risposta è stata esaudiente il contenuto però non mi piace grazie grazie passiamo alla quarta interrogazione avendo il progetto area sgambamento cani prego il consigliere aprile allora area sgambamento sgambamento cani premesso che il territorio del comunale alpignano presenta un'evidente carenza di aree di sgambamento cani considerato che nel bilancio di previsione duemila ventitré duemila venticinque è stata prevista per ogni anno la somma di euro quindici mila per la realizzazione di un'area sgambamento cani considerato che durante il consiglio comunale il cinque aprile duemila ventitré il gruppo obiettivo alpignano ha presentato un'interrogazione per conoscere su quale area verrà realizzata l'area sgambamento cani per l'anno duemila ventitré se esiste un programma per l'individuazione delle aree future e quali esse saranno dato che a tale interrogazione rispondeva l'assessore barbiani affermando che era già stata individuata l'area sgambamento cani per l'anno duemila ventitré e che si stava lavorando di un programma per quelle future ma che non voleva svelarne la posizione per evitare un putiferio per le proteste di alcuni cittadini come è venuto anni addietro considerato che alla data di presentazione di codeste interrogazioni non ci risulta che sia stata realizzata alcuna area sgambamento cani sul territorio i sottoscritti consiglieri comunali andrea oliva e sandro bella interrogano l'assessore barbiani uno per conoscere se nel rimanente mese di dicembre di quest'anno verrà realizzata l'area in oggetto e se quindi vi sia già un progetto approvato con i relativi costi ed eventuali eventuali affido a lavori due qual è il luogo dove sarà realizzata tre se non lo sarà quali sono le motivazioni che hanno determinato la mancante mancata realizzazione e se verrà recuperata nel duemila ventiquattro in aggiunta a quella già prevista per quell'anno grazie grazie risponde l'assessore barbiani buonasera a tutti allora sandro è il primo punto per conoscere se nel rimanente mese dice no direi che è abbastanza evidente qual è il luogo dove sarà realizzata ti rimando al considerato che del 5 aprile del duemila ventitré perché rimane quella quali sono le motivazioni le motivazioni sono che in nell'anno in cui che stiamo passando definire a dicembre abbiamo avuto tutto un discorso che l'ho già detto forse nell'interrogazione della scorso consiglio che è piovuto tra capo e collo che era tutto il discorso del cse che ci ha portato via un sacco di tempo idem tutte il discorso del pnrr che è assolutamente molto faticoso e burocratico e quindi dovendo fare alcune scelte soprattutto per non stressare e riempire di lavoro anche gli uffici perché poi alla fine sappiamo tutti come sono messi anzi ringrazio già per il grande lavoro che sono riuscito a terminare per il cse come dicevo l'altra volta ma anche per i lavori che si stanno iniziando per il discorso del pnrr come villagoven il polo e le piste e quindi il ritardo è che l'abbiamo è stato volutamente messo un attimino in secondo piano che riprenderemo sicuramente nel 2024 ma perché non non si riusciva secondo me a mettere veramente tutto ciò che si in alcuni casi avevamo in testa ma e poi come abbiamo detto l'altra volta il cse ci è sembrato che prendere l'occasione del bando sportello del milione di euro per le nostre scuole forse era conveniva la pena ci vale valeva la pena mettere le nostre i nostri sforzi nei nostri risorse lì quindi questo è stato un pochettino il motivo nulla nulla di più grazie la parola al consigliere se ho capito bene quindi il 2024 ne fate due allora recuperate questa nel 2024 cominciamo a vedere questa poi ti saprò dire se basiamo anche l'altra cominciamo a vedere questa se mi dai poi te lo posso anche dire io mi fermo un attimino cerchiamo di vedere questa cosa qua allora la risposta è una fotocopia di quella dell'interrogazione del 5 aprile dove mi ero dichiarato non soddisfatto e dove alla fine avevo detto non vorrei caro sessore doverti fare un'interrogazione dicembre chiedendoti dov'è l'area cani promessa in 2023 e infatti tra due giorni dicembre e siamo qua a chiedere dov'è l'area cani quindi non posso che non essere soddisfatto perché capisco che il PNRR porti via anche cse portino via un sacco di tempo però un'area cani non è un'opera paraonica si poteva perlomeno già imbastire il progetto e quant'altro evidentemente non è una priorità oltretutto era stata presentata anche già è una storia lunga questa perché se non ero il consigliere Martino aveva presentato una mozione approvata all'unanimità nel 2021 l'anno dopo aveva presentato un'interrogazione nel 2022 noi l'abbiamo fatta al 2023 ma vediamo che le cose non non si smuovono continuiamo a rimanere senza area cani porterò la rimostranza all'ufficio lavori pubblici da parte tua basta incrementare il personale volendo comunque non sono soddisfatto grazie grazie passiamo all'ultima interrogazione avente per oggetto stato di attuazione sponsorizzazione rotonde prego consigliere allora premesso che con deliberazione della giunta comunale numero 118 dell'11 agosto 2021 venivano definite le linee di indirizzo finalizzate alla selezione di sponsor a cui assegnare la realizzazione e manutenzione del verde delle rotatorie stradali situate nel territorio comunale in dettale libera venivano individuate le rotatorie per il progetto di sponsorizzazione tra queste la numero 2 che era rotatoria via garibaldi incrocio strada provinciale per il rivode numero 3 rotatoria via mazzini incrocio piazza strada provinciale per rivoli numero 4 rotatoria via mazzini incrocio piazza 8 marzo 8 marzo considerato che durante l'intusione comunale del 5 aprile 2023 il gruppo obiettivo alpiniano ha presentato un'interrogazione per conoscere lo stato dell'arte di detto progetto di sponsorizzazione dato che a tale interrogazione rispondeva in maniera dettagliata ed esaustiva l'assessore montagono riferendo che sulla base di una manifestazione di interesse erano state selezionate le attività commerciali e professionali a cui affidare le suddette rotonde e che ad esse era stata trasmessa da tempo la documentazione in merito e si era in attesa dei progetti rimanevano inoltre ancora da segnare le rotonde di via grange palmero via val della torre dato che lo stesso sosservo montagono specificava che dopo un periodo di stasi del progetto dovuto ai notevoli impegni l'ufficio tecnico avrebbe ripreso la comunicazione con le imprese visto che attualmente le rotonde elencate in precedenza non hanno ancora beneficiato di questa valorizzazione mediante sponsorizzazione i sottoscritti consigliari comunali andrea oliva sandro berila interroga un assessore montagono per conoscere uno se è ripartito l'iter di affidamento della sponsorizzazione delle rotonde alle ditte selezionate e qual è lo stato di attuazione due se vi sono state manifestazioni di interesse per le rotonde di via grange palmero via val della torre e a che punto è l'iter per la loro sponsorizzazione grazie grazie risponde l'assessore montagono ecco andato ci siamo basta un pezzo un po alto allora innanzitutto grazie grazie sandro grazie obiettivo alpignano per spesso quando vengono portati i temi collegati a quello che il mondo delle imprese nell'aspetto specifico poi è una combinazione tra quello che il diciamo l'opportunità della red urbano di quello che il nostro il nostro verde e le sponsorizzazioni che eh promuovono e danno opportunità e visibilità alle imprese del del nostro territorio come dal resto tutto quello che promozione delle nostre imprese eh perciò ben venga che ci sia il tema in consiglio comunale allora per dare Mauri sento troppo un grazie per per dare appunto risposta al al primo punto sì da aprile duemilaventitré naturalmente è ripartito leader i tecnici hanno ripreso le interlocuzioni appunto con chi aveva manifestato l'interesse dalle appunto dalle precedenti manifestazioni che avevamo ottenuto ma nello specifico ehm lo studio webbo ha eh in qualche modo eh andata avanti una manifestazione su tre che erano in qualche modo arrivate a arrivate all'ente di cui questa appunto sta ultimando le procedure manca a tutti gli effetti un ultimo passaggio puramente contabile che eh di fatti vedremo oggi nel nella variazione di bilancio eh che c'è all'ordine del giorno troveremo anche la voce collegato alle sponsorizzazioni perciò è un aspetto puramente contabile passata la variazione di oggi domani l'ufficio potrà procedere insieme al all'azienda nella nella diciamo nella conclusione dei contratti di sponsorizzazione e poi ne penso nei prossimi giorni ma ormai penso a gennaio febbraio ehm dare l'avvio ai lavori di diciamo di allestimento della della rotonda. Nello specifico la rotonda che andrà ad essere assegnata sarà quella di via Garibaldi diciamo incrocio con la SP 178 faccio quella proprio adiacente alla piazza dei caduti e diciamo che erano già pronti a partire volendo anche ad allestire a a novembre eh fine ottobre poi appunto per una solo per una questione di di passaggi tecnici eh abbiamo un attimino prorogato di un paio di mesi. Eh mentre per rispondere al secondo punto eh sì è arrivata un altro un'ulteriore manifestazione di interesse faccio le interlocuzioni eh sia personali ma anche comunque del gruppo e eh anche le stesse manifestazioni spontanee che arrivano dal diciamo dalle imprese è arrivata la manifestazione della ditta Perino Infissi per in qualche modo prendere in gestione la la rotonda di Grange Palmero quella via Val della Torre anche lì loro stanno procedendo con con un loro iter iniziale che è quello naturalmente della preventivazione la valutazione dei costi che comunque da quello che abbiamo visto sono hanno comunque un che questo fa 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 davvero onore alle imprese che stanno anche impegnando parte dei loro pondi per per fare questo allestimento che naturalmente noi non giochiamo sull'aspetto eh della della dell'abbellimento delle delle rotonde e non chiede dei costi di manutenzione che eh in qualche modo riusciamo a sgravare e dall'altra parte è un'ottima opportunità per le imprese naturalmente per 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 mettere la loro la loro pubblicità la loro la loro mettersi in vetrina eh sui due punti direi che sono sono abbastanza breve in qualche modo questo è oggi quello che si è sviluppato colgo l'occasione se eh per informarvi appunto che nei prossimi giorni proprio sulle sulle rotonde eh inizieranno gli allestimenti natalizi abbiamo deciso quest'anno di concentrare quello che è l'abbellimento diciamo natalizio eh sulle nostre rotonde principali perciò quelle che parte da via Venaria, via Cavour, via Mazzini, via Migliarone e le due adiacenti alla piazza dei caduti andremo a fare un allestimento eh semplice ma molto secondo noi molto di impatto abbiamo selezionato queste rotonde perché sono quelle che hanno eh all'interno la la piramide con l'obelisco diciamo su su cui andrà montata diciamo la la struttura per per cui fare la la l'allestimento e poi nei prossimi anni vedremo eh se riuscire appunto a fare con ulteriori investimenti anche la la piramide sulle altre rotonde perciò sulle vie principali avremo comunque un bel colpo d'occhio probabilmente e questo è un piccolo investimento che abbiamo fatto, abbiamo fatto proprio l'acquisto di una serie di 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 addobbi natalizi, di luminarie che andranno a posizionarci così i prossimi anni anche sarà un qualche cosa che dovremo solo mantenere e gestire a livello di montaggio naturalmente da ditte che lo fanno lo fanno di di professione e perciò avremo ancora diciamo questo upgrade sotto aspetto natalizio e e poi appunto in futuri aggiornamenti eventualmente per nuove responsabilizzazioni. Grazie. Grazie. Prego la parola consigliere. Ho una domanda. Quella di via Garibaldi è stata eh l'iter ripartito. Le altre due su via Mazzini, piazza 8 marzo e l'altra hanno ritirato la la cioè fatta la manifestazione, passati alla preventivazione, valutati i costi eccessivi, hanno hanno rinunciato. Sì, probabilmente o rilanceremo naturalmente una come posso dire una comunicazione per chi va bene. Ok, sono soddisfatto la risposta è stata esaustiva. Grazie. Grazie consigliere Avrile. Ora passiamo al punto due comunicazione e do la parola al sindaco per una comunicazione. una che riguarda eh quanto eh tenuti sui questo questo weekend eh in presso la città di di Bialogard con di Bialogard con accompagnati con me in delegazioni. C'erano l'assessore Barbiani nella veste di assessore ai rapporti internazionali il consigliere Bosio, la consigliere Asciuto eh è stato sottoscritto il patto di amicizia con la città di di Bialogard in in Polonia abbiamo conosciuto i rappresentanti della dell'amministrazione già nel nel lontano duemila e ventidue eh in occasione eh di un'altra visita che tenemmo presso un altro dei eh comuni con cui delle città con cui vi sono dei rapporti internazionali che è la città di di Montana. Sulla base di questa conoscenza e approfondimento non ultimo loro sono stati da noi ospitati in occasione del palio insieme all'amministrazione si è voluto perseguire l'obiettivo del patto di amicizia. I contenuti del del patto sottoscritto riprendono la lettera di intenti che venne fermata già nel mese di di luglio. In in breve leggo la parte del convengono di stipulare tramite il presente documento un patto di amicizia con le seguenti finalità. Lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i municipi di Bialogard, Polonia, Alpignano, Italia nell'ambito della pubblica amministrazione, condivisione di buone pratiche in un'ottica di sviluppo di entrambi i comuni, creazioni di progetti comuni nell'ambito dello sviluppo economico locale, miglioramento della gestione dei servizi pubblici, partecipazione alla vita democratica e in attività di cooperazione da parte delle cittadinanze dei due paesi, creazioni di occasioni di mutua cooperazione, condivisione di buone pratiche in un'ottica di sviluppo di entrambi i comuni, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, scusate, promozione della cultura dei rispettivi paesi, delle rispettive comunità, scambio di esperienze e istituzioni di progetti nell'ambito di istruzione, gioventù, sport, tradizioni, cultura e associazionismo, costruzione di progetti condivisi, cofinanziati dall'Unione Europea nei vari settori, promozioni di una cultura di pace, giustizia, legalità, libertà e democrazia nel solco dei valori condivisi dalla comuna appartenenza all'Unione Europea. La sottoscrizione è avvenuta sabato 25 di novembre. Porto a tutto il Consiglio Comunale ovviamente i saluti della della Sindaca Emilia Buri e della sua amministrazione. La seconda comunicazione invece riguarda e riprende un po' un tema del che avevamo trattato nel Consiglio Comunale di settembre in occasione di un'interrogazione che venne fatta da parte di Davide in quell'occasione in cui risposi sul trasporto pubblico locale da da lunedì nell'ambito del del progetto di dell'avanzamento del progetto di rivisitazione delle linee di collegamento della zona eh nord ovest un pezzo insomma tra noi e e collegno rivoli ehm dopo eh i due mesi di di rodaggio che sono avvenuti soprattutto tra luglio e e settembre il mese di ottobre la ditta eh affidataria del servizio della linea centoquarantotto il collegamento della Torralpignano ha rinvenuto che sulla base del contratto erano disponibili ehm ulteriori modifiche da poter apportare queste modifiche a livello di chilometri ci hanno permesso di poter eh riportare dal lunedì scorso dal ventisette eh una comunicazione stabile con un'area sicuramente eh più fragile in questo momento del trasporto pubblico locale che è la zona del del belvedere eh in questo momento la ditta segnataria che è la ditta guerra nell'ambito di quella che è la la linea identificata come centoquarantotto ha presentato eh la la fase di nuovo rodaggio lunedì è partito questo se vogliamo per meglio calibrare anche le tempistiche in in maniera ottimale un transito che verrà garantito da lunedì al venerdì sabato festivi ovviamente scaglionato poi nel negli orari con una diminizione eh maggiore importante nei nei festivi rispetto a quello settimanale si aggiunge a quello che sono già alcuni tratti che vengono fatti anche dello scolastico ma che non è ad uso esclusivo del degli studenti anche eh tutti gli altri eh fruttori possono possono tranquillamente salire su quei mezzi quindi con una parte di orari più intensi sia al mattino che eh nella fascia del dell'uscita soprattutto da parte dei quelli che sono eh i licei gli istituti tecnici su su rivoli quindi nel pomeriggio ma poi con una cadenza oggi all'ora come collegamento anche sul sul belvedere in andata e in ritorno fa parte questo del del progetto più più ampio che vi avevo già accennato siamo in attesa invece eh da parte del di GTT in questo in questo caso direttamente assegnataria del della tratta che deve essere eh messa in pista di collegamento tra i poli sanitari quindi il collegamento ancora ospedale di Rivoli può che casa di comunità di Alpignano e eh ospedale di comunità e poliambulatorio di Venaria non è ancora partito eh ci sono state delle criticità sul prolungamento della linea rispetto a quello che avevano previsto i tecnici perché questa linea è quella in arrivo da nonne quindi eh fare un tiro unico di quella linea si sta oggi dimostrando soprattutto per il traffico che interessa la città di di Rivoli per alcuni cantieri in corso eh la nostra città per le criticità storiche che che riporta ma anche per eh alcuni lavori che sono sulla tratta verso Venaria non riuscivano garantire eh il tiraggio entro l'ora e venti minuti tale per cui è il percorso garantito senza interruzioni di conseguenza stanno rivisitando la possibilità di interscambi probabilmente su su Rivoli sull'ospedale quindi il tratto non è Rivoli e poi Rivoli Venaria eh senza senza cambi eh in attesa che vengano definite di nuovo queste tempistiche tecniche abbiamo di nuovo avuto un incontro anche con l'assessore Gabusi che è anche assessore ai trasporti eh affinché potesse monitorare eh l'avvio quanto prima di questo progetto che eh rispecchia ed è all'interno delle stesse linee di indirizzo che la regione si diede non più tardi di quattro anni fa proprio per avere un trasporto pubblico locale che prioritariamente ragionasse sul collegamento dei poli sanitari e rimaniamo in attesa insomma da di avere anche questa attuazione siamo comunque contenti di poter dire che adesso anche il Belvedere servizio è servito dal dal trasporto pubblico locale grazie passiamo al punto tre dell'ordine del giorno presidente chiedo scusa a rigore di regolamento mi concede solo una piccola replica breve breve ok grazie prego consiglio allora noi siamo contenti che ci sia stato questo patto di amicizia con questa cittadina polacca però lo abbiamo preso dai social avremmo gradito magari una comunicazione un po' come si fa quando c'è il gemellaggio con content che viene mandata la mail ai consiglieri per sapere se hanno intenzione di partecipare o non partecipare e poi non partecipiamo quasi mai mai ecco però questo siccome era un nuovo patto di amicizia avremmo gradito di avere una comunicazione prima non abbiamo niente contrario siamo contenti però perlomeno non apprenderlo da da facebook solo quello grazie consigliere albrile passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno avente per oggetto approvazione verbale seduta del 28 settembre 2023 se non ci sono osservazioni li diamo per letti e passiamo alla votazione prego dottor costantino palmieri lemente leonardi zanello brignolo favorevole cipriano favorevole baldi bosio favorevole sciuto favorevole albrile favorevole martino gaeta allora al momento della votazione risultano 12 presenti in aula aventi diritto al voto con 12 voti favorevoli il consiglio approva la proposta di delibera passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno avente per oggetto ratifica variazioni urgenti di bilancio numero 6 approvata con deliberazioni di giunta comunale numero 142 del 2023 do la parola all'assessore il bilancio granissimo buonasera a tutti scusate la mascherina ma sono fortemente raffreddato eh la variazione di bilancio numero 6 quella che è stata fatta di urgenza è stata fatta e la necessità di di questa urgenza è determinata dal fatto che per un errore decisamente tecnico la lo stanziamento di Gorbian Academy era stato maggiorato di un importo che non era praticamente il proprio quindi eh si è dovuto provvedere a questa variazione anche perché questo problema impediva l'elaborazione del bilancio preventivo duemilaventiquattro duemilaventisciai a questa necessità si è giunta poi quella dell'imputazione della corretta imputazione contabile dei lavori per la pista ciclabile rispetto al nuovo cronoprogramma la pista ciclabile eh sarà praticamente attuata in bellissimo tempo e già in duemilaventiquattro saranno stati saranno fatti i maggiori lavori e quindi eh contabilmente abbiamo dovuto appunto seguire quello che era il cronoprogramma e rendere per rendere praticamente in bilancio ciò che erano quelle che saranno stati quelle che saranno le scifre spese nel duemilaventiquattro le spese del duemilaventiquattro tengono conto del di una di ciò che non è avvenuto nel duemilaventitré quindi è stato spostato nel duemilaventiquattro e di ciò che non avverrà nel duemilaventicinque anticipando i lavori per cui sono state spostate nel duemilaventiquattro di infatti i centotrentanone mila settecentocinquantadue euro sono appunto l'adeguamento dello stanziamento erroneo di Gorian Academy e quindi questo importo eh viene detatto sia per quanto riguarda lo stanziamento sia per quanto riguarda l'assegnazione del della della spesa mentre il seguendo il cronoprogramma nel duemilaventitré non sono stati spesi cento non saranno spesi centotrentacinquemila euro e questi soldi verranno spostati come adesso vedremo nel duemilaventiquattro nel duemilaventiquattro troveremo l'adeguamento dello stanziamento come dicevo per il cronoprogramma delle piste per cinquecentosettanta cinquecentosettantatremila che tengono conto mi ripeto dello spostamento dal duemilaventitré al duemilaventiquattro delle cifre che abbiamo visto precedentemente nonché lo spostamento delle cifre che dovranno essere spese nel duemilaventicinque di quattrocentotrentasettemila quindi contabilmente dobbiamo seguire ciò che sono le logiche di spesa anno per anno e quindi questo ha comportato la variazione degli importi di stanziamento nel duemilaventitré duemilaventiquattro e duemilaventicinque comunque lo stanziamento così in base a quanto ho riferito rimane appunto uguale identico a quello che eravamo a quello che si era ipotizzato già nel passato e per quanto riguarda le piste ciclabbi è stato senza è stato soltanto eventualmente l'importo addossato al duemilaventiquattro rispetto agli anni precedenti niente di nuovo per quanto riguarda il polo emergenziale la suddivisione del dell'importi di stanziamenti contabili servono il vecchio cronoprogramma grazie ci sono interventi in merito dichiarazioni di voto prego consigliere aprile dunque capiamo la necessità di fare questi spostamenti vuoi per un piccolo errore vuoi per l'esecuzione dei lavori non siamo contro a questo pnr anche se l'avremo realizzato in maniera diversa eccetera eccetera non vogliamo essere parlo al plurale anche se non c'è Andrea ma perché ho un gruppo alle spalle e prendiamo solente decisioni insieme quindi non siamo contrari a questa variazione di bilancio che è necessaria per andare avanti col pnr di conseguenza voteremo favorevolmente grazie grazie ci sono altre dichiarazioni di voto possiamo procedere alla votazione prego dottor costantini palmieri lemente leonardi zanello brignolo cipriano valdi bozio favorevole sciuto favorevole albrile favorevole martino gaeta con dodici dodici presenti dodici voti favorevole il consiglio approva la proposta di deliver passiamo al quinto punto l'ordine del giorno avente per oggetto assestamento generale di chiusura del bilancio di previsione 2023-2025 variazione numero 7 del bilancio di previsione 2023-2025 verifica della sussistenza degli equilibri ai sensi dell'articolo 193 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi secondo semestre 2023 relazione all'assessore granissimo allora questa è l'ultima variazione del 2023 eh come potete notare anche questa variazione di senso positivo il segno positivo in quanto incrementiamo appunto l'opportunità di spesa in questa variazione di 248 mila euro 183 mila euro soltanto per quanto riguarda nuovi accertamenti di incrementi di entrata che non sono da poco mentre il altri 65 mila euro sono determinati dal dai primissimi frutti del controllo di gestione che ci hanno permesso di fare dei girocontri fra capitoli di spesa da fa un'area e l'altra ma all'interno della stessa e anche all'interno della stessa area mentre per quanto riguarda la parte capitale ci sarà una maggiore spesa di 147 mila anch'esse derivante da incrementi di entrata e principalmente per 140 mila euro per giro conto la come vedete nella nella colonna dell'attivo ci sono varie maggiorazioni di accertamento per canone unico evasione contrasto alle evasioni imu contrasto all'evasione latari l'incremento anche delle utenze affittuari di 20 mila euro sono una evidenza contabile di quella che è la sponsorizzazione delle rotatorie quindi troveremo i 20 mila euro nella parte attiva e i 20 mila euro nella parte passiva ma sono esclusivamente una evidenza contabile della sponsorizzazione gli imborsi e recuperi diversi per 46 mila euro sono sentenze stipulati di contratti pubblicazione e bandi di gara altri incrementi per violazioni delle codice della strada a carico di imprese per 16 mila euro i canoni dell'assilo nido per 10 mila e 10 mila euro mentre nelle spese troviamo un giro conto di 5.500 euro che è derivato dal minor costo delle polizze assicurative mentre abbiamo incrementato il capitolo per il pagamento di eventuali franchigie 5.000 sono ancora per la riduzione della Tari come è già successo nel precedente nella precedente consiglio purtroppo eh moltissimi ISEI sono stati presentati di ISEI consentono di eh poter avere un risparmio sulla Tari dico purtroppo nel senso che questo vuol dire che la popolazione di alpiniano non presenta praticamente un uno stato economico peggiore degli anni passati in più eh forse non si vede ma comunque ci sono altri 15 mila euro che sono stati messi a bilancio per la postalizzazione della riscossione equattiva la riscossione cattiva partirà a giorni sono stati è stato vinto il bando e la società che precariamente si interesserà della posta della della discussione equattiva si interesserà anche del canale unico nelle spese decisamente molto importanti sono i 17 mila euro che abbiamo messo a bilancio per quanto riguarda la digitalizzazione dell'archivio pratiche edilizie stiamo precamente immaginando di poter sfottire tutto ciò che sono le pratiche eh cartace in in rendendole digitali in più ci sono piccole spese per quanto riguarda la manutenzione del totem e mezzi di protezione altre spese per quanto riguarda la riparazione dell'auto della polizia municipale acquisto vestiario e di e di per quanto riguarda sempre la polizia municipale teniamo appunto che è vero che ripariamo l'auto quest'anno ma è in programma l'acquisto di un'auto per il duemila un'auto nuova per il duemila e ventiquattro per quanto riguarda invece le eh i sei mila e novecento euro del giro contro le spese straordinarie questa è soltanto una eh variazione all'interno delle varie aree dove probabilmente in alcune aree si è speso di meno per delle prestazioni straordinarie mentre sono servite in altre aree purtroppo c'è ancora abbiamo dovuto riscontrare un incremento delle spese del gas per quanto riguarda la materna Matteo di Borello nonché per la elementare Matteotti mentre positivamente possiamo dire che spenteremo trentuno mila euro per la sempre attraverso i giro conti per l'attività educativa specialistica degli studenti HC inoltre c'è stato un giro di conti dal Cissa per la eh per il pagamento di progetti socio assistenziali quando quali il treno della memoria il teatro per i bambini l'educativa di strada l'infanzia abbandonata e i centri estivi a questi si aggiungono altri importi di quattordici mila trecentosessanta che serviranno per pagare la giornata della salute la consulta delle donne i progetti sulla legalità i progetti della disabilità in primis eh laudido questi sono toldi che spendiamo orgogliosamente eh per quanto riguarda i lavori pubblici incremento purtroppo dei costi di illuminazione c'è un saldo delle fatture del gas di ventimila euro la sponsorizzazione delle rotatorie come vi avevo evidenziato precedentemente è un dato è esclusivamente contabile di entrata e di uscita spese di manutenzione minime eh in totale tremila e quattromila euro in cui oltre ci sono altre spese per acquisto materiale di consumo non che la pagamento della convenzione del consorzio Bialera invece per quanto riguarda la parte capitale ci sono incrementi maggiori incrementi per quanto riguarda i proventi cimiteriali per circa settemila euro spenderemo questi settemila euro per acquisto di immobili per duemila per acquisto della red urbano per tremila cento quarantotto non che una acquisto di uno scanner che purtroppo il precedente è caputo ci sono ancora eh rispese di otto mila euro come diceva l'assessore montagono questi otto mila euro serviranno per l'acquisto delle luminarie mentre invece un grosso investimento viene fatto per l'acquisto di installazione delle videocamere e le fototrappole per cento parrenta mila euro anche questo è frutto di un giro pronto per quanto riguarda la manovra di assessamento questa è in effetti la verifica contabile di tutti gli stanziamenti sia d'entrata che di dispesa e questa verifica ha avuto esito positivo gli equilibri bilancio hanno dimostrato che il fondo crediti è adeguato il fondo di riserva è adeguato non ci sono debiti fuori bilancio per cui possiamo dire che persiste la la verifica degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la parte corrente sia per quanto riguarda la parte capitale ergo non occorre operare nessuna manovra di salvaguardia allora questo documento è è allegato alla nota di aggiornamento del DUP del duemilaventiquattro duemilaventisei grazie grazie eh scusate dobbiamo tornare indietro sul punto quattro dell'ordine del giorno perché ho bypassato la votazione per l'immediata eseguibilità quindi eh votiamo l'immediata eseguibilità per la variazione urgente di giunta comunale numero sei Almieri Lemente favorevole Leonardo Zanello favorevole Brignolo favorevole Cipriano favorevole Baldi Bosio favorevole Sciuto favorevole Albrile favorevole Martino Gaeta dodici presenti dodici voti favorevoli si consiglia approva l'immediata eseguibilità possiamo ritornare al punto cinque dell'ordine del giorno e si apre il dibattito ci sono degli interventi prega prego consigliere grazie allora vediamo in questa variazione bilancio delle cose che ci piacciono soprattutto i centoquarantamila euro anche se non basteranno ma comunque un inizio per il sistema di videosorveglianza e al quale noi siamo siamo favorevoli vuoi perché ultimamente abbiamo notizie di 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 atti non proprio piacevoli sul territorio comunale in alcune zone della città e ci auguriamo che quindi in questi posti vengano state le telecamere che non sono la risoluzione di tutti i mali ma sicuramente contribuiscono a eliminare o attenuare il il problema poi non dimentichiamoci che le telecamere sono anche utili e l'abbiamo visto in questi giorni nel caso in cui si debba inseguire qualcuno verificare dove è fuggito dove non è fuggito perché può succedere un reato grugliasco e questo questo questa passa per il collegno rivo del pignano e dalla telecamera lo si vede si può ricostruire quindi è utile anche non solo per il nostro territorio ma anche per le le indagini di pubblica sicurezza e quant'altro questi centoquaranta cinque mila ci piacciono ripeto probabilmente non basteranno ma è comunque un inizio ed è una cifra considerevole ci piacciono i 17 mila euro della digitalizzazione dell'archivio di inizio avevamo fatto un'interrogazione un po' più di un anno fa in merito proprio per chiedere se avevate intenzione di digitalizzare tale archivio e spero che poi facciate anche una piattaforma online dove si possa fare l'accesso direttamente online come hanno già molti altri comuni che è comodissimo senza muoversi dall'ufficio e che una volta che è regime voi incassate i diritti senza dover più far nulla se no l'intenzione del sistema quindi anticipo già che per questi due motivi principali anche ci sono altre cose che non non ci piacciono voteremo favorevolmente grazie grazie consigliere Bele prego a parte le telecamere che ovviamente possono dare maggior sicurezza noi vorremmo lavorare anche sulla educativa di strada e anche su quello abbiamo praticamente messo un po' di soldini perché eh magari prima di eh succedono prima che magari succedono delle cose insomma poco gradite magari è possibile prevenirle con le dibattite di strada grazie ci sono altri interventi prego consigliere Bele faccio questo intervento giusto per rimarcare solo eh tre cose ehm in un'amministrazione i primi frutti eh politici del del proprio cammino non arrivano soprattutto in un primo mandato eh nei primi nei primi mesi prima bisogna investire e poi e poi si raccolgono più ci sono tre passaggi che vorrei eh rimarcare il primo è quello del contrasto all'evasione fiscale che è stata una scelta fortemente voluta perché non è solo un dovere costituzionale no? L'articolo mi pare il cinquantadue eh dice che tutti dobbiamo pagare le tasse in proporzione alle nostre possibilità ma anche abbiamo il dovere della solidarietà sociale politica eh certo le tasse sono sempre tante per ognuno di noi è troppe non ci fa piacere pagarle no? Però è un nostro dovere costituzionale mi piace che sia stato eh facendo un po' come santo no? Nei mi piace non mi piace mi piace che sia stato messo contrasto all'evasione perché la parola contrasto è proprio vuol dire mettersi contro fare barriera è una scelta politica all'evasione qua non si tratta di eh solo di chi non paga le tasse perché non ha possibilità per questo dobbiamo invece mettere in campo tutte le risorse perché possa in qualche maniera trovare il sostegno ma chi le evade la parola evasione vuol dire proprio eludere volutamente questa lotta al contrasto eh mi pare che porti ai suoi frutti e sia anche ciò che in qualche maniera era un nostro mandato prodotto. Non abbiamo i dati alla mano spero che il prossimo anno lo potremo vedere mi rincuora il fatto di sapere che l'aumento del gas sia riferito alle scuole Borello eh e eh Matteotti che sono fra l'altro delle scuole che non sono attualmente eh attaccate all'impianto ehm che abbiamo eh fortemente voluto con una scelta politica non sostenuta da tutti i gruppi consigliati è stata una scelta eh oggi spero che questo sia un segnale che porta a caso i suoi primi frutti di quella scelta consapevole e che mh credo che sia giusto in questo momento eh rimarcare. Ehm tra i punti eh volevo solo fare un breve passaggio sulle videocamere eh e cioè non lo faccio in vena polemica ma per una questione di correttezza della dialettica politica non è che abbiamo cambiato idea sulle videocamere ma è un diverso approccio è un po' una volta abbiamo fatto anche una discussione sul centro non è che pensiamo e continuiamo a pensare che non è che con la presenza delle videocamere risolveremo eh i problemi che la nostra società dal punto di vista civico educativo ha. Le telecamere se vogliamo in qualche maniera hanno un po' il compito di incidere sul senso della sicurezza che i cittadini hanno. Però il compito primario della politica non è quella di risolvere il problema mettendo un occhio e eh eludendo invece quello che è il compito civico e di educazione alla condivisione del del cammino della propria città. È vero che ponendo le videocamere magari su quelli che possono essere dei luoghi sensibili e più fragili possiamo tenere sotto controllo localmente alcuni alcune situazioni può essere quello di una scuola di un bene di un bene pubblico che ha un alto valore artistico no? Così non viene danneggiato. Però non ci dobbiamo illudere che laddove invece ci sono dei problemi generalizzati sulla città non saranno le telecamere a risolverlo perché sposteremo solo il problema laddove si sapranno che ci sono le telecamere. Quindi giusto non abbiamo cambiato idea lavoriamo sulle telecamere dal punto di vista eh locale eh puntuale nei punti fragili dove possiamo tutelare persone e cose però non ci dimentichiamo che permane quello che era dal pensiero politico dell'inizio di mandato che la sicurezza della città e lo stare bene il vivere bene sulla città passa attraverso un processo educativo e di condivisione tra la politica e i suoi cittadini. grazie ci sono altri interventi prego la consigliera Clemente. Sullo stile del consigliere Brignolo e di abrile dico anch'io dei mi piace eh in quanto questa variazione come le altre ha incrementato sul bilancio eh delle voci in positivo. Questo riguarda gli accertamenti come l'IMU il canone il canone unico la Tari incrementi su varie voci delle entrate e questo ha permesso anche appunto di aiutare un po' di più gente in difficoltà con questa riduzione della Tari. In più sono state messe dei soldi anche nell'ambito socio assistenziale e questo proprio perché la cittadinanza ha bisogno di di aiuti anche a questo livello e soprattutto sui giovani, sui bambini. Quindi su questo mi sembra che sia stata fatta una manovra corretta eh condivisibile. Eh poi volevo evidenziare eh il valore aggiunto del controllo di gestione. Il controllo di gestione che appunto è un lavoro che ha fatto l'assessore Granisso a cui ci teneva particolarmente. ha contribuito a controllare un po' la la macchina comunale. Il controllo di gestione consente di ottenere di ottenere un feedback eh costante sull'operato dell'ente al fine di migliorarne il rendimento. Analizza le risorse economiche e fattori produttivi ai fini del guadagno e del raggiungimento degli obiettivi. E attraverso la pianificazione, l'esecuzione, il reporting e la valutazione. È possibile revisionare i piani e l'impiego delle risorse. Sicuramente il lavoro è complesso e impegnativo ma nella collaborazione tra ufficio e l'amministrazione è possibile rilevare più velocemente efficienze e inefficienze utili a rendere più produttiva la macchina comunale. Obiettivo che sta al cuore di tutti noi amministratori e cittadini. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Posso fare il secondo? Voglio consigliare a te. Allora, lungi da me il voler far polemica ma eh io ricordo che qualcuno non era molto favorevole alle telecamere ma lasciamo perdere si può sempre cambiare idee eccetera eccetera. Eh ma ma in democrazia però funziona così ma evidentemente avete cambiato. Nel contesto iniziale come ribadiva Gianni non sono d'accordo alla telecamera come quello che deve essere il grande fratello proposto invece da qualcun altro in campagna elettorale. Allora noi non abbiamo proposto il grande fratello ma semplicemente vigilare sui luoghi più a rischio e come fanno tutti comunicano le telecamere in ingresso che servono anche per fare multe per verificare revisioni assicurazioni e quant'altro perché poi diventa anche un problema quando uno ha un incidente con qualcuno che non ha l'assicurazione. Lì sì che nascono i problemi. Allora quelle telecamere gli dovrebbero scoraggiare chi va in giro senza assicurazione. Se le avessero tutti comuni avremmo non dico risolto il problema ma l'avremmo ridotto notevolmente. Certo le telecamere l'ho detto prima così non sono la soluzione di tutti i ma non sono la panacea però sicuramente contribuiscono. Eh io poi vado a vedere se mi serve o se non mi serve la registrazione. Viene cancellata. Eh mi ero dimenticato di dire che ci piace anche la lotta all'evasione. Questo sì sicuramente perché permette di incassare ciò che spetta al comune e con quello si possono fare diverse altre opere. grazie. 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 Altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Faccio dichiarazione di voto. Siccome avevamo parte di queste cose nel nostro programma telecamere, digitazione archivio edilizio, lotta l'evasione eccetera eccetera sarebbe un controsenso votarvela contro. Quindi voteremo come gruppo obiettivo alpignano favorevolmente. Grazie. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto possiamo passare alla votazione. Prego. Palmieri. Clemente. Favorevole. Leonardo. Favorevole. Zanello. Favorevole. Brignolo. Favorevole. Cipriano. Favorevole. Baldi. Favorevole. Bossio. Favorevole. Sciuto. Favorevole. Albrile. Favorevole. Martino. Gaeta. Dodici presenti. Dodici voti favorevole. Il consiglio approva la proposta di delibere. Passiamo all'immediata eseguibilità. Palmieri. Clemente. Favorevole. Leonardo. Favorevole. Zanello. Favorevole. Brignolo. Favorevole. Cipriano. Favorevole. Baldi. Favorevole. Bosio. Favorevole. Sciuto. Favorevole. Albrile. Favorevole. Martino. Gaeta. Dodici presenti. Dodici voti favorevole. Il consiglio approva l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto sei dell'ordine del giorno. Avente per oggetto approvazione e note di aggiornamento documento unico di programmazione. DUP 2024 e 2026 relaziona l'assessore Granissimo. Allora il documento di programmazione. Il documento unico di programmazione è un documento che va approvato prima del bilancio preventivo del periodo 2024 e 2026. Noi abbiamo fatto già un'approvazione nel DUP nel luglio e quindi questo è un aggiornamento rispetto a quanto è stato programmato precedentemente. In effetti non ci sono particolari variazioni in questo aggiornamento del DUP. Diciamo che in molti casi gli obiettivi sono stati esposti in modo più esplicativo. Ci sono delle questioni che in effetti fanno evidenziate come il promuovere azioni di networking con le società sportive oppure la valorizzazione del prodotto agroalimentare locale con attuazione delle certificazioni d'eco. ancora a seguire e a impostare la progettualità prevista nel piano strategico del distretto del commercio. Sono stati enormemente sviluppati e in modo più analitico alcuni argomenti molto importanti, quali la cultura, la scuola, i giovani, l'infanzia, le politiche sociali, le politiche abitative, la disabilità, gli anziani, l'esclusione sociale, le famiglie, servizi sociosanitari e sociali. Tutte queste informazioni decisamente importanti sono circoscritte da pagina 161 a pagina 170. Le ritengo decisamente molto rilevanti e importanti. Inoltre ci sono nella parte 2 della sezione operativa viene compreso il programma tennale dei lavori pubblici nonché il programma tennale dei servizi e forniture. Faccio rimarcare il fatto che il programma precedentemente tennale dei servizi e delle forniture da quest'anno è un programma tennale. qui ho elencato praticamente le pagine del documento, il DUP, che è un documento lunghissimo in cui sono evidenziate praticamente tutte le varie informazioni che possono essere appunto dette pagina per pagina. Non mi soffermo molto, anzi non mi soffermo per niente questo argomento. Io credo che ognuno di voi aveva letto non dico tutto il tutto, ma perlomeno le parti che erano per loro di maggiore interesse. Volevo soltanto per curiosità statistica verificare quello che praticamente è l'andamento demografico del nostro comune, che purtroppo tende a invecchiare enormemente. Come potete vedere soltanto il 15% della popolazione del comune di Alpignano è al di sotto dei 19 anni, mentre il 27-28% ha un'età oltre i 64 anni. Quindi decisamente se facciamo una proiezione, purtroppo il comune di Alpignano tende a invecchiare e quindi probabilmente a diminuire di popolazione. Un altro dato statistico che mi ha impressionato, ma comunque impressionato nel senso che è evidente, ma che comunque i numeri danno un'idea molto più impegnante, è il numero della popolazione che è superiore a 50 anni, che nettamente è superiore a tutto il resto della popolazione. È un dato statistico, ma comincia a farmi riflettere e penso che sia il poster. Tra la ricetta è anche qualcun altro. Grazie. Grazie, Assessore Granissimo. Ci sono interventi? Prego, consigliere Abrile. Allora, abbiamo analizzato il DUP che ci era stato inviato a fine luglio e è un po' diverso da quello degli anni scorsi. L'anno scorsi era un po' più descrittivo, che stanno un po' più sintetico e quando si va a sintetizzare si perde un po' il filo, eccetera, eccetera. Comunque, facciamo un'analisi dei vari obiettivi delle singole aree, singoli programmi, eccetera, ma faccio un'analisi di quelli che sono gli obiettivi strategici del programma di mandato 2020-25. E allora, leggo. Si affiancano questi progetti già finanziati con i fondi del PNRR, l'ha rimesso in servizio anche attraverso forme di partenariato degli altri immobili inutilizzati presenti nel nostro territorio. Superate le molteplici controversie con le gestioni precedenti, dai campi sportivi presenti nella zona campagnola alla piscina comunale alla bocciopila comunale, la volontà politica di ridare la città a questi spazi si attuerà attraverso macro progettualità o come già in fase di sperimentazione, progettualità finanziate al riuso, anche se differenti dalla natura principale per cui gli immobili sono stati concepiti. Allora partiamo da quest'ultima frase, anche con una natura differente da quella, una situazione d'uso differente da quella per cui gli immobili sono stati concepiti. Ecco, secondo me questa è proprio l'ultima spiaggia, nel senso, mi riferisco ad esempio a piscina e bocciopila, io vorrei che la bocciopila rimanesse bocciopila e la piscina piscina. E quindi vorrei che voi vi resta da fare con bandi, manifestazioni, provando, riprovando, perché vengano mantenute queste destinazioni. Solo come ultima razio, proprio dopo aver fatto i bandi, manifestazioni, tutto quello che serve, se nessuno si prende la bocciopila allora posso anche capire che diventi un campo da padel, un campo da pallavolo, palacanestro coperto. Però prima vorrei che ci fosse l'impegno concreto per per mantenere quella destinazione. Poi sorrido un po' perché qui si parla di piscina comunale, volontà politica questa è bocciopila, ma al momento non abbiamo visto nulla. Abbiamo fatto un'interrogazione per sapere se era stata fatta la benedetta perizia sulla piscina, non è stata fatta. Mi sono giunte voci che forse verrà affidata a giorni, però intanto abbiamo perso un anno e quasi un anno e mezzo, perché la piscina ne siete entrati possesso nel luglio dello scorso anno. E allora questa volontà io non la vedo ben manifestata. Non parliamo poi della bocciopila. Vabbè che adesso verrà rimesso in funzione il campetto da bocce del parco Aldomoro, però anche per la bocciopila immagino che bisognerà fare una perizia, bisognerà andare a vedere cosa funziona, cosa non funziona più dopo anni di fermo. E anche lì se non faccio la perizia non riesco a capire di che male devo morire e quindi non so se posso riparare io e poi dare in affido o se do in affido così com'è e arrangiatevi ma questa è la cifra che dovete dovete spendere. Quindi qui non vedo questa volontà politica. Siete già a tre anni adesso, più di tre anni dal vostro mandato, ne mancano solo due. Uno con un po' di malizia potrebbe pensare vabbè lo faranno l'ultimo anno per farsi belli. Non credo che sia così. Poi almeno spero. Si parla di arterie all'attraversamento nord-sud della città già previste e confermate con il PTAGM della città metropolitana. In seguito alla realizzazione di queste due nuove arterie, ritenute fondamentali strategiche per il miglioramento della viabilità di attraversamento della nostra città, l'amministrazione si riserva a valutare per seguire tutte le possibili modalità di copianificazione, coprogettazione e ricerca di fondi per la realizzazione delle stesse. Ecco vi ricordo che noi avevamo chiesto un tavolo in merito al ponte perché poi sotto si parla sul lato est realizzazione del tracciato. Ecco vorremmo poter capire perché poi io ero stato bacchettato perché avevo scritto l'interrogazione che non si stava facendo nulla. Invece il sindaco mi aveva detto no stiamo facendo qualcosa con città metropolitana. Ecco noi non siamo a conoscenza di queste cose. Il tavolo serve per capire e serve eventualmente per fornire anche dell'idea perché se ho capito bene la realizzazione del tracciato dell'eventuale bretella ad est non è ancora ben definita. Potremmo avere delle idee anche noi o semplicemente vorremmo essere informati per tutto quanto. E al momento non abbiamo ricevuto risposta poi alla successiva interrogazione dopo la comunicazione che volevamo un tavolo e la risposta è stata il 69. Non apriremo questo tavolo. Il tavolo lo volevamo aperto a tutte le forze politiche anche quelle non presenti in particolare. Vado avanti. Avviate da tempo l'interlocuzione con regione, città metropolitana, i comuni confinanti, le associazioni di categoria e tutti gli altri attori interessati e si parla del progetto delle vasche di laminazione della Dora. Ora attori interessati penso che lo siamo che noi consiglieri di minoranza no? Anche per il discorso che facevo prima del ponte della bretella est, ovest e quant'altro. Vorremmo anche qui che se non volete aprire un tavolo ci diate delle informazioni. Io so che ci sono state delle riunioni ma non ho mai avuto copie di verbali di queste riunioni per capire bene quali sono le intenzioni, le vostre scelte politiche, quelle degli altri comuni, c'è stato anche case elette e vorrei potervi dire anche la mia e prendi la mia e devo prendere visioni di ciò che è stato fatto. Quindi lancio anche qui un appello se è possibile avere anche qui un tavolo o una condivisione. Poi vado avanti c'è la scelta di raccogliere i partenariati pubblico privato per l'illuminazione pubblica. Eh, meno male. Noi avevamo presentato anche un'interrogazione in merito. Vi ricordo che avevo detto che avevo controllato in alcune zone le luci si accendevano mezz'ora prima necessario, si spegnevano mezz'ora dopo, bastava regolare il crepuscolare anche per contenere la bolletta. E poi andando avanti mi sono segnato altre cose, vediamo se le trovo. Ah sì, a pagina 75 vengono ripetute un po' di cose che ho già detto, sempre per manifestare la volontà politica in questo gruppo. E quindi si parla di realizzazione di un nuovo allestimento tecnologico della sala del consiglio comunale. Abbiamo presentato un'interrogazione, mi spiace che non ci sia l'assessore Barbiani che mi aveva risposto che entro luglio la sala sarebbe stata finita ma mancava ancora la connessione se non erro, che sarebbe arrivata a settembre-ottobre. Siamo a dicembre, siamo ancora a fare il consiglio comunale qui. Non è urgente questa cosa, va bene anche questa sala però. Poi lo sviluppo e l'incintivazione della pratica sportiva attraverso l'apertura degli impianti sportivi dismessi, qua il campo Gorello, campo Montanaro, la piscina, il bocciodromo, tramite l'avviso di partenariati pubblico privati ma anche con la possibilità di ricollocazione degli stessi in altre aree della città secondo l'idea di sviluppo del piano regolatore. Ora, ricollocarli, va va. Rialacciandomi al cambio di destinazioni d'uso del punto precedente, i cambi sportivi ne abbiamo due, inutilizzati. È difficile che vengano affidati tutti e due. So che quest'estate, io li confondo sempre, quello in fondo è il Borello, vero? Penso di sì. Eh, ok, lo so aggettato. Ecco, so che il Borello è stato utilizzato per area di scotteca aperta e noi siamo favorevoli a questa cosa. Ecco che si potrebbe sacrificare uno dei due impianti, tanto non si riescono a piazzare tutti e due, a quanto pare, perché le società sportive sono un po' in crisi, e trasformarle in un'area aperta ai cittadini. Eh, un comune non molto distante da qua, con dove, sta facendo una cosa del genere. Ecco che vi lanciamo questa idea, una sorta di parco aperto per praticare attività sportiva per tutti e per utilizzare, operare, per manifestazioni e concerti, non sarebbe male sacrificare il Borello per fare una cosa del genere. Poi, leggo, alienazioni beni immobili via Lechene di via Matteotti, noi via Matteotti avevamo contestato, tra virgolette, avevamo detto che forse si poteva utilizzare per gli alloggi, per per le emergenze, qualcuno aveva detto ma è mal dislocato quel appartamento oltre che piccolo, vabbè, allora vendiamolo. L'immobile di via Lechene di che era, penso, il vecchio ufficio di collocamento e sono anni che lo mettete nei beni alienabili ma poi non lo alienate mai. Sarebbe da vendere, anche perché credo che lì il Comune si paghi ancora le spese condominiali, visto che è inserito in un condominio ed è vuoto. Poi parliamo di ampliamento del cimitero comunale attraverso forme di partenariato pubblico, privato o altre tipologie. Anche qui avevamo presentato una regolazione perché c'era stato un periodo in cui, se non ero, c'era carenza di loculi e anche perché questo, diciamocelo sinceramente, per il Comune può essere anche un piccolo business, cioè riesce a incamerare dei fondi. Poi abbiamo di nuovo qui riqualificazione energetica e impianto in emozione pubblica, vedersi ciò che ho detto prima, completamento e miglioramento del nodo intermodale movicento attraverso il prolungamento del binario 2 per permettere l'accesso dal parcheggio di via Pietre. Ora avevamo presentato un'interrogazione in merito, la risposta era stata che avreste preso contatti con ferrovie, se non erro, e il prolungamento del binario 1 è stato fatto a spese di RFI, sul binario 2 mi sembra ci sia qualche problema per la rampa, per i disabili. Secondo me lo spazio per farla c'è comunque, questo è poi un dettaglio tecnico. Tutto qui, ma ancora un piccolo accenno, se trovo il punto, alle risorse umane. Avevamo fatto interrogazione sul numero di dipendenti che è in calo di 11 o 12 unità da quando siete sudentrati voi. Qui si parla che per il raggiungere... Ah, sono al limite? Vabbè. Hai battezzato il nuovo timer. È perfetto. Lo vi dico nel secondo intervento eventualmente. Va bene, grazie. Grazie consigliere Erbrile. Ci sono altri interventi? Prego il consigliere Zanello. Buonasera a tutti. Questo documento lo discutiamo qua ed è lo sviluppo di quello, l'aggiornamento di quello presentato e approvato dalla Giunta presentato in luglio. È un documentone, un lavorone, quello che ci sta dietro e perfezionarlo non è facile. Comunque apprezzo il lavorone che è stato fatto, sono quasi 200 pagine e rendere coerente ogni capitolo perché ricordo è basato sulle missioni, quindi sull'accordinamento dei vari uffici. Cioè non è questo ufficio fa quello, questo è con l'ufficio fa quell'altro. È armonizzato tutto per missioni, quindi è un bel lavoro. partendo dall'inizio condivido lo shock che ha espresso l'assessore Granisso sulla diminuzione della popolazione di Alpignano. Io ho fatto, ho guardato quei numeri, ho fatto delle statistiche, qui stiamo calando la popolazione in maniera esponenziale. Cioè la popolazione, la densità di popolazione per anno nell'età della scuola materna è la metà di quella della densità sugli anni lavorativi. Quindi questo ci deve guidare nelle prossime scelte. Apprezzo i chiarimenti che sono stati introdotti recentemente. Dei vari capitoli eh volevo spendere un qualche parola velocemente. Eh c'è il capitolo della sicurezza civile, protezione civile. Questo è un capitolo importante su cui si è visto il lavoro fatto. Eh citerei per esempio per restare nel pratico e non sullo strategico. Citerei eh l'impegno che ha messo il comune con l'ufficio protezione civile e il coinvolgimento di tutti eh gli attori. Cioè praticamente tutti gli uffici del comune più altri partner, più la giunta, più altri. Eh l'abbiamo visto nelle emergenze meteo. Cioè c'è eh gli attori erano tramite di fatto quello che è il COC che è stato eh istituito durante la pandemia. Ecco questi attori sono stati presenti e sono sempre intervenuti. Quindi apprezzo questo obiettivo che vedo concretizzato. Poi questo si lega anche con il progetto della realizzazione che vedremo fra non molto del del polo di emergenziale di protezione civile che sta procedendo perché la ditta è già è stata assegnata. Eh sull'efficientamento energetico questo è un grande tema, un grande obiettivo, anche questo con dei risvolti pratici perché abbiamo già visto la realizzazione del progetto a seguito del bando dei comuni per la sostenibilità energetica e l'efficientamento energetico. Il CSE che ci ha dato eh l'efficientamento, i pannelli solari su quattro scuole e l'efficientamento del palazzetto dello sport. Poi ci sono l'altro progetto finanziato dal PNR Govern Academy di cui vediamo la cantierizzazione in questo in questi giorni. Sul patrimonio chiaramente ci sono delle cose strategiche come la un po' obiettivi strategici che di cui non vediamo ancora la realizzazione. Per esempio il palazzo di Piazza Gerolina, Piazza Vittorio, è un bell'obiettivo strategico piacerebbe a tutti avere le risorse finanziarie e anche umane per mettere in piedi anche questo progetto perché se no vediamo degradare questi palazzi. Un altro aspetto quella della mobilità sostenibile anche qui possiamo non possiamo che apprezzare i risultati concreti appunto le linee le tre linee di di bus la 148 di cui eh nella comunicazione il sindaco appena annunciato che sarà prolungata anzi è già stata prolungata da lunedì fino al belvedere e poi il progetto della pista ciclabile eh di cui esiste già il progetto esecutivo e la eh cantiorizzazione non so quando partirà ma partirà eh però non molto dopodiché eh citerei l'obiettivo del del consolidamento dei gemellaggi e patti di amicizia di cui si è parlato nell'altra eh comunicazione io credo che sia interessante questo patto siglato con Biaugrad perché sono tutte occasioni di cooperazione che si vedono ehm concretamente utili ad Alpignano eh per esempio in vista di progetti a livello europeo perché l'Unione Europea finanzia eh i progetti basati su cooperazioni internazionali eh infine volevo apprezzare anche l'obiettivo strategico che sta andando avanti eh della costituzione di una comunità energetica ad Alpignano è un obiettivo molto sfidante perché ogni comune come il nostro si trova a navigare in uno scenario particolarmente nebuloso eh cominciare dal fatto che il ministero dell'ambiente no ritarda la firma del decreto attuativo da cioè questo decreto doveva uscire un anno e mezzo fa ed è ancora lì bloccato poi tutta una serie di altre difficoltà organizzative che si trova di fronte al comune ma c'è ma apprezzo l'obiettivo di andare avanti lo stesso su questo obiettivo grazie grazie consigliere Zanello prego l'assessore Barbiani eh sì difficilmente io prendo la parola nella vostra discussione ma eh quando poi ci sono delle inesattezze secondo me converrebbe chiarire soprattutto per i cittadini che ci ascoltano a casa e Sandro hai fatto un passaggio su RFI abbastanza blando no? dove hai detto che appunto la parte 1 veloce la parte il binario 1 l'ha fatto RFI ricordo che quando siamo arrivati avevamo un parcheggio un parcheggio non c'era il collegamento che da 50 anni vorrei ricordare dal binario 1 non andava al parcheggio ma il binario 2 arrivava fino al sottopasso che l'Easy Station è stata passata come uno dei progetti pilota che non era così che quei 100.000 euro sono stati fatti dai RFI perché l'azione politica ha fatto sì che ci fosse il collegamento se no era tronco quel parcheggio che il binario 2 ti dirà una grossa novità mi era scritto il 4 di novembre l'ingegnere Bagnato di RFI che lo faranno a carico loro quindi completeremo quella cosa lì allora i cittadini dobbiamo dire la verità no quindi io adesso dico poi non so quando lo faranno ma lo farà e lo faranno perché l'attività politica è andata a bussare RFI per farsi fare quella cosa lì perché era sul suo terreno e quindi forse dopo 50 anni e anche di più riusciremo anche ad avere un parcheggio funzionale un binario 1 e un binario 2 che porta al parcheggio perché se non era tronco che i cittadini lo sappiano questa cosa qua perché se no diventa veramente un'informazione un po' tronca grazie e scusate grazie assessore barbiani ci sono altri interventi prego secondo intervento ho pochi minuti sono veloce io ho dato l'informazione corretta ho detto che avevate parlato con RFI per prolungarlo poi ho detto che l'ha fatto RFI perché l'ha fatto RFI quel lavoro lì non l'ha pagato il comune ma io ho detto che avete parlato con RFI e poi RFI l'ha fatto sue spede eh ok però ho dato l'informazione corretta e ho detto che RFI aveva trovato dei problemi sul secondo binario no no io ho detto che RFI aveva detto inizialmente che non ci stava la rampa disabile secondo me ci sta come ecco poi eventualmente eh no non ho io detto questo eh no 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 ci mancherebbe altro eh vado sul programma triennale opere pubbliche perché ho solo cinque minuti allora faccio mi sono andato a guardare tutti i programmi triennali addietro allora a parte il primo del trenta novembre duemilaventi dove avevate tolto per il duemilaventitré perdon per il duemilaventuno il lotto sei di asfalti io avevo criticato ma avevate detto è il primo che facciamo vedrai che quello rimettiamo infatti nel consiglio comunale il venticinque marzo duemilaventuno è stato rimesso il lotto sei per il duemilaventuno e c'era l'otto sette per il duemilaventidue l'otto sette duemilaventidue poi il trentun maggio è stato ribadito tutto avete fatto alcune modifiche del PNRR passiamo all'anno dopo trenta marzo duemilaventidue siccome io vi avevo criticato dicendo vabbè mettetene due recuperate il lotto che non avete fatto nel duemilaventi avete messo l'otto sei e l'otto sette nel duemilaventidue seguendo la nostra critica ok poi cosa avete fatto nel duemilaventidue consiglio comunale del tredici marzo duemilaventidue mi ritrovo l'otto sette nel duemilaventidue quindi non fatto e mi ritrovo l'otto otto nel duemilaventidue adesso andiamo a fare l'otto sette nel duemilaventidue quattro quindi dal duemilaventidue è andato nel duemilaventidue allora a parte tutte le altre opere che sono da finanziamenti statali di conseguenza io le metto poi se non arrivano i finanziamenti le faccio traslare e va benissimo ci siamo per il resto gli asfalti in tre anni ne avete fatti un lotto solo invece che farne tre ora questa cosa l'ho già detta commissione tecnica tre c'è la fibra che sta passando benissimo però l'anno scorso non sapevate la fibra è vero che poi far la figuraccia come fatto città metropolitana nel tratto tra piazza giroline il ponte che ha fatto l'asfalto e neanche un mese dopo la fibra gliel'ha tagliato e vabbè siete stati fortunati in tal senso se facevate gli asfalti adesso saltavano via per per la fibra ben venga la fibra eccetera però non credo che la fibra vada su tutte le strade del territorio comunale non credo che vada in via dei ronchi o in strada campagnola che non mi sembrano ben sistemate non credo che vada nella parte bassa di via garibaldi che ha delle belle buche che se passi un po veloce e non dovresti passare veloce ma le volte capita ci lasci il cerchione eccetera eccetera mi sarei aspettato di avere due lotti finalmente per recuperare nel 2024 invece ne ho solo uno qualcuno ha detto che forse facevate in tempo a farne uno in tre fine anno può anche essere c'è già la determina di spesa in che data è questa determina già stata oggi ecco auguri per ogni spazio d'inverno non è proprio il massimo delle cose comunque speriamo allora di fare di nuovo una modifica del programma triennale avori pubblici per spostare sì sì nel 24 cambieremo il nome a 7 e 8 io mi auguro che sia così saremmo comunque a due su a due su su tre ecco le manutenzioni nel nostro viso sono da fare l'unico lotto che avete fatto l'avete fatto con il mutuo gli altri sono copertura di oneri credo che di oneri nei prossimi anni ne incasserete perché c'è un bel movimento nell'area commerciale certo che se poi andiamo a fare le rotonde sul territorio degli altri comuni e gliela paghiamo noi allora se andiamo a scomputare così gli oneri li perdiamo e non facciamo gli asfalti sono alla fine dei miei minuti mi taccio grazie grazie consigliere ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi prego consigliere brignolo per un intervento abbastanza breve su su due punti anche perché il gruppo è un documento complesso a 197 pagine e quindi non basterebbe altro che una serata discutere però il passaggio che faccio è questo tra i compiti che noi abbiamo come consigliere comunale abbiamo quello di indirizzo e di controllo e all'interno del gruppo senza addentrarmi poi ci sono obiettivi generali obiettivi specifici sicuramente ci saranno delle cose che potrebbero essere fatte meglio potrebbero essere fatte diversamente però quello che voglio sottolineare è che leggendolo ho ritrovato quelli che sono gli indirizzi di facciamo scuola e li ho ritrovati su tutte le aree poi siamo spesso e volentieri siamo più focalizzati a quello che vediamo di più alla repubblica alla manutenzione ma l'amministrazione di una città è fatta anche di politiche sociali di aree servizio della persona di politiche educative di commercio di sostegno alle imprese e quindi ritrovare all'interno del gruppo degli obiettivi come consigliere comunale nell'ambito e di indirizzo e di controllo devo dire che mi ha fatto particolarmente piacere. Facendo solo un passo indietro riferendomi all'altro intervento che avevo fatto poco prima relativamente alla lotta al consultorio dell'evasione dico che con lo stesso criterio ritrovare gli atti di indirizzo dentro il DUP mi fa dire a tutti gli assessori che lavorano veramente molto e pancia a terra che laddove il DUP e poi anche su seguentemente le scelte di bilancio ma io parlerei di DUP perché poi non sempre si riescono a fare le scelte di bilancio coerentemente al DUP perché naturalmente dipende dalle risorse ma laddove ritroveremo gli obiettivi e quelli che erano i presupposti del programma politico avranno tutto il nostro sostegno e tutta la nostra collaborazione anzi per riferendomi proprio anche all'intervento di prima dico perseguiamo su quella strada sull'evasione fiscale continuiamo a andare avanti dall'altra parte non ci dimentichiamo di tutta difficoltà quindi da una mano da una parte dobbiamo poi essere altrettanto sensibili ad accogliere chi ha difficoltà ma con altrettanta fermezza dobbiamo far seguire chi facevano notare e lude perché chi elude e chi ha di chi evade il secondo punto è questo è un obiettivo che c'eravamo tanto volevamo portare l'aggiornamento del DUP a novembre per poi riuscire a portare il bilancio preventivo a dicembre al di là di quelle che potevano essere le le proroghe che magari lo Stato ci darà magari poi lo Stato centrale a dicembre all'ultima settimana di dicembre farà la sua manovra fiscale va bene non fa niente la politica è fatta di sostanza ma è fatta anche di forma e rispettare i tempi della politica secondo me è un atto dovuto nei confronti dei nostri cittadini e anche per ridare serietà e dignità alla politica che è spesso un po' martiriato. Chiudo e so che un po' questa volta qualche volta suscita ilarità il fatto che io ringrazio sempre un po' di queste cose però devo dire che così come disse a luglio che il nostro segretario generale ci aveva un po' preso per mano e ci aveva accompagnato in questo cammino per l'importanza del DUP per metterlo prima del bilancio previsionale questo grande sforzo di arrivare a novembre ha visto tutta la giunta oltre che noi consiglieri ma anche soprattutto la dottoressa Ruggero e anche il nostro segretario proprio a cercare di rispettare i tempi. È stato difficile è stato per certi versi e per loro più che per noi massacrante però questo impegno che ci eravamo presi a luglio di riuscire a riprendere e ad accorciare quelle che erano state per certi versi delle linguaggini mi trova particolarmente contento e soddisfatto e nei contenuti e all'interno dei tempi che sono stati rispettati. Quindi il mio ringraziamento va per tutti gli assessori della giunta e a tutta la macchina comunale in testa senza togliere nulla a nessuno la dottoressa Ruggero e al segretario generale. Grazie mille. Grazie. Ci sono altri interventi? possiamo passare alla dichiarazione di voto? Prego consigliere Abrile. Per quanto esposto sarò molto breve per quanto esposto prima come gruppo obiettivo alpignano voteremo contrario. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni medio voto passiamo alla votazione Palmieri Clemente favorevole Leonardo Zanello favorevole Brignolo Cipriano favorevole Baldi Bosio favorevole Sciuto favorevole Albrile contrario Martino Gaeta quindi dodici presenti nove voti favorevoli tre contrari e il consiglio approva la proposta di delibera. Passiamo all'immediata eseguibilità Palmieri Clemente favorevole Leonardo Zanello favorevole Brignolo favorevole Cipriano favorevole Baldi Bosio favorevole Sciuto Albrile favorevole Martino Gaeta dodici presenti dodici voti favorevole il consiglio approva l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto sette dell'ordine del giorno avente per oggetto verifica quantità e qualità aree fabbricate da destinare a residenze attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Eh relazione al sindaco. Ho dimenticato la mia cartellina a casa stasera. Allora è la delibera che riportiamo eh in attuazione propedeutica ovviamente per quello che è la parte urbanistica per la destinazione di aree come già abbiamo affrontato negli altri eh anni e le altre volte che abbiamo passato questa delibera la scelta attualmente anche fatta all'interno del piano regolatore e di destinare eventuali eh metrature, superfici, alloggi per quanto riguarda quello che è un discorso convenzionato all'interno dei PEC in realizzazione una percentuale di quello che deve essere realizzato dagli operatori e partanto permane la volontà di non aver fatto modifiche su questo tipo di linea di indirizzo quindi non risultano essere presenti all'interno delle aree identificate come tali anche eh attualmente così come sono indicate sul piano. Grazie. Ci sono interventi? Allora se ci sono interventi, dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Palmieri. Clemente. Favorevole. Leonardo. Zanello. Favorevole. Brignolo. Favorevole. Cipriano. Baldi. Favorevole. Bosio. Favorevole. Sciuto. Favorevole. Albrile. Favorevole. Martino. Gaeta. Favorevole. Palmieri. Clemente. Favorevole. Favorevole. Leonardi. Zanello. Favorevole. Brignolo. Cipriano. Baldi. Favorevole. Bosio. Favorevole. Sciuto. Favorevole. Albrile. Favorevole. Martino. Gaeta. Favorevole. Favorevole. Questa modifica è stata già illustrata in una commissione e questo regolamento trae origine proprio da testo unico come è stato poi modificato nel 2013 quindi è un regolamento che è obbligatorio in tutti i comuni si disciplina in questo regolamento il controllo a regolarità amministrativo e contabile sugli atti successivo il controllo sugli equilibri di bilancio, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate e il controllo sulla qualità dei servizi erogati siamo partiti con l'idea di fare alcune modifiche sul controllo di regolarità amministrativa e poi sono stati fatti invece anche degli altri interventi sul regolamento nel suo complesso da una parte sono stati introdotte le previsioni normative degli ultimi anni quindi si fa riferimento adesso al DUP e al PIAO e non più agli strumenti di prima è stato reso un po' più semplice e flessibile l'applicazione del regolamento per esempio non è più richiesta la presa in carico da parte del comune di un altro segretario nel caso in cui si debbano controllare atti che vengono adottati dal segretario ma in quel caso il segretario si astiene, viene nominato, è previsto che ci sia un ufficio a supporto e quindi ci saranno altre persone che controlleranno questo tipo di atti per quanto riguarda il controllo sulle partecipate poi ancora c'era un articolo dove si elencavano una serie importanti di atti che il comune avrebbe richiesto piuttosto che fare un elenco preciso in quell'articolo è stato ritenuto che fosse opportuno lasciare al momento e all'ufficio capire quali erano gli atti che erano più opportuno nel singolo caso e nella circola circostanza andare a richiedere alle nostre partecipate questa è un po' quindi le principali novità che sono state fatte e la volontà è quello di rendere comunque l'atto abbiamo detto più utile e flessibile grazie dottor Costantini ci sono interventi dichiarazioni di voto l'intervento o dichiarazione di voto? ma anche dichiarazioni di voto prego dottor Costantini noi ci fidiamo nel senso che non abbiamo tutte le competenze che ha lei per dire che questo regolamento va aggiornato per stare a passo con i tempi e per semplificare le cose quindi voteremo favorevolmente sulla fiducia se ne mancherebbe altro grazie ci sono altre dichiarazioni di voto? possiamo procedere con la votazione Palmieri Lemente favorevole Leonardo Zanello favorevole Brignolo favorevole Cipriano favorevole Baldi Bosio favorevole Sciuto favorevole Albrile favorevole Martino Gaeta favorevole dodici presenti dodici voti favorevoli consiglio approvo la proposta di delibera passiamo all'immediata eseguibilità Palmieri Clemente favorevole Leonardo Zanello favorevole Brignolo Cipriano favorevole Baldi favorevole Bosio favorevole Suto favorevole Albrile favorevole Martino Gaeta dodici presenti dodici voti favorevoli il consiglio approva l'immediata eseguibilità passiamo al punto nove dell'ordine del giorno avente per oggetto convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra i comuni di Gugliasco Collegno Druento Sangiglio e Alpignano relazione al sindaco grazie presidente è una convenzione quadro che nasce dalla volontà di sinergia con altri comuni del territorio l'abbiamo raccolta tra le idee che il dottor Costantini ci ha messo sul sul tavolo provenendo lui proprio da uno dei comuni interessati che in questo momento è in scadenza che il comune di duruento ma che ha dato vita in precedenza con l'altro comune che era sotto il comando del segretario generale che era il comune di Grugliasco la convenzione è un qualcosa che va oltre la forma per cui è stata istituita ma sicuramente oggi prendiamo atto delle potenzialità che la stessa ci potrà portare proprio su una delle criticità aperte e note è oggetto anche di discussioni in consiglio comunale che è la collaborazione per la ricerca del personale che oggi è quello che sta mettendo davvero alla stregua tutte quante le amministrazioni locali dalle più grandi alle più piccole questa è una delle sinergie di conseguenza che si potrà andare a sfruttare ma vale anche per accordi attuativi che possono prevedere diverse modalità di collaborazione l'avvallimento di uffici di altri enti, altre forme di collaborazione e cooperazione come ambiti legati ai servizi generali e innovazioni il personale come accennavo prima, i bilanci ai tributi, le government, la comunicazione, gli appalti, il territorio e l'ambiente, lo sviluppo economico, la polizia municipale, la sicurezza e la protezione civile ricordate come in passato c'era un accordo anche tra i comuni di Alpiniano e di Pianezza sulla polizia municipale per cenare a una delle sinergie e poi l'esito pro o contro insomma è stata la storia a dircelo ma è per ricorrere ad alcuni di questi esempi la stessa cosa vale per gli uffici cultura e istruzioni questo è il contenuto nella forma per come è stata scritta, era sulla base di quella che era la sinergia dei quattro comuni originari che la sottoscrissero e noi siamo più che contenti e lieti di poter arrivare anche noi all'interno di questa convenzione di supporto aiuto tra gli enti comunali Grazie sindaco, ci sono interventi? Prego consigliere Allora io ho solo un piccolo dubbio, forse interpreto male io nella delibera a pagina 2 da metà in giù c'è scritto considerato che poi il secondo punto lo schema di convenzione quadro, salto un pezzettino, prevede la possibilità di individuare modalità di collaborazione a valimento ovvero di delega di funzioni e servizi e attività senza nuovi oneri per la finanza pubblica quindi questa collaborazione non dovrebbe avere dei costi poi vado a vedere il regolamento e all'articolo 1,2 si stabilisce la ripartizione degli oneri finanziari sicuramente comunque qualcosa costa ma poi andando giù all'articolo 6 io ci arrivo allora articolo 6,1 i costi sostenuti per la costituzione ed il funzionamento degli uffici comuni le spese relative all'avvalimento degli uffici dei comuni di cui ci si avvale e quel derivante da altre forme di collaborazione sono ripartiti tra le parti quindi qui si parla di costi a parte il funzionamento che ovvio se si collabora gli uffici non lavoreranno gratis quindi se lavora più l'ufficio di un comune l'altro comune dovrà dare un contributo eccetera però qui si parla anche di costi per la costituzione e teoricamente dovrebbero essere quelli che non aggravano sulle finanze pubbliche la costituzione del gruppo di lavoro sono io che la interpreto in maniera un po' troppo restrittiva quando si parla di senza nuovi oneri ci sono anche le leggi statali che dicono sempre senza nuovi oneri si intende a bilancio invariato quindi se io spendo nel bilancio 4.000 euro per fare una cosa ho il bilancio costituito in quel modo devo continuare a spendere 4.000 euro poi come diceva giustamente lei ci possono essere delle spese che venivano affrontate dal comune X che poi vengono ripartite anche sui comuni Y e Z ci potrebbero essere degli acquisti di software che comunque o di hardware che comunque i comuni farebbero magari vengono affrontate da uno dei comuni e vengono ripartite anche sugli altri la logica è quella di cercare di spendere meno e di avere più efficienza nella gestione degli uffici nella gestione delle gare grazie segretario ci sono altri interventi prego consigliere Zanello grazie per le spiegazioni tecniche comunque io andrei al di là dei tecnicismi contabili perché mi pare che creare una collaborazione tra questi comuni mi sembra apprezzabile in sé nel senso che crea efficienza e quindi se anche mi costa 100 magari me ne fa risparmiare 200 io dico questo per quello che ho visto nella collaborazione del patto territoriale o come fa l'Unione Montana cioè ci sono delle messe a fattore comune di risorse che portano efficienza e quindi non posso che essere favorevole a questo tipo di intervento grazie grazie ci sono altri interventi? prego il consigliere Bozio mi senti? allora volevo fare semplicemente un brevissimo intervento giusto per sottolineare quella che io ritengo la genialità di questa soluzione perché allora si fa tanto parlare di mancanza di personale e effettivamente si fa anche tanto parlare di collaborazioni oltre al nostro comune quindi al di là dei confini del nostro comune pensavo ci fosse già finito il tempo il mio intervento ma a volte la soluzione è proprio unire queste due cose quindi l'unione che viene proposta la collaborazione che viene proposta da questo documento e riguarda appunto il personale ma riguarda anche ad esempio tutto bene? riguarda anche ad esempio la condivisione delle graduatori di concorsi e la condivisione dei concorsi stessi tutto bene non riesco a capire mi fai un cenno ma non riesco a capire cosa c'è ok perfetto alla condivisione delle spese anche relative ai concorsi e quindi un ammortizzamento e un'ottimizzazione anche di questa parte di discorso secondo me secondo noi la via è proprio questa la via è cercare di trovare una soluzione comune a problemi che sono comuni non soltanto riguardo al personale ma l'abbiamo visto ad esempio collaborando di recente a livello intercomunale ad esempio come è stato accennato prima nella comunicazione nell'estensione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale ma potrei fare altri esempi su cui il fatto di collaborare con enti locali simili al nostro possa portare dei risultati positivi non ultimo un altro oggetto di comunicazione appunto la formalizzazione di rapporti internazionali con altre città insomma rientra tutto mi piace mi piace constatare che rientra tutto all'interno di una di una visione politica secondo me molto coerente che è appunto quella che ho cercato di esprimere quindi anticipo anche il nostro voto ovviamente favorevole e sono molto contento che si sia intrapeso a questa strada grazie grazie consigliere Bosio ci sono altri interventi dichiarazioni di voto prego allora ovviamente siamo favorevoli perché questo tipo di accordo non fa che ridurre credo i costi per i comuni aumentare le esperienze e a crescere in capacità eccetera eccetera quindi molto semplicemente voteremo favorevolmente grazie grazie consigliere abrile se non ci sono altri interventi possiamo passare la votazione prego palmieri clemente leonardi zanello favorevole brignolo favorevole cipriano favorevole baldi osio favorevole sciuto favorevole albrile martino gaeta 12 presenti 12 voti favorevoli consiglio approva la proposta di delibera passiamo all'immediata eseguibilità palmieri clemente leonardi zanello favorevole brignolo favorevole cipriano favorevole baldi bosio favorevole sciuto favorevole albrile martino gaeta favorevole 12 presenti 12 voti favorevoli consiglio approva l'immediata eseguibilità passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno l'ultimo punto in cui riguarda la mozione mozione di vicinanza e sostegno alla popolazione palestinese e israeliana così come presentata occorre a seguito indicazione del segretario una modifica di forma ma non della sostanza premesso che i civili palestinesi e israeliani sono decenni che soffrono premesso che nelle ultime settimane la situazione è peggiorata ritenuto dover far sentire la vicinanza del consiglio comunale di alpiniano al popolo israeliano e al popolo palestinese questa prima parte è la parte parte aggiunta alla proposta il consiglio comunale di alpiniano esprime vicinanza a tutti coloro che soffrono palestinesi e israeliani in questo momento buio di conflitto auspica che vengono protetti i civili si facciano arrivare molti più aiuti umanitari si liberano gli ostaggi tra i quali ci sono tanti anziani e bambini afferma con forza che ogni essere umano che sia cristiano ebreo musulmano di qualsiasi popolo e religione ha diritto a vivere in pace auspica inoltre che si fermano le armi che non porteranno mai la pace e che il conflitto lasci l'imposto al dialogo si può dare inizio al dibattito se ci sono interventi prego consigliere brignolo sì intanto mi contento del testo della mozione e penso anche queste settimane pensavo anche che la mozione è stata presentata ha una sua sensibilità credo anche penso a te Davide che nel tuo lavoro sei stato più di una volta in missioni all'estero quindi più di ogni altro di noi abbia potuto vivere sulla tua pelle che cos'è una situazione di se me lo consentite poi posso stare nell'intervento che fare mio di intervento vorrei fare proprio quello che voleva fare la consigliera Gemello questa sera che però sono influenzata che leggerò e farò mio anche da quello che individuo intorno dice devo ammettere che la prima botta che è stata presentata alla riunione della conferenza del capogli mi aveva messo non poco in difficoltà era una mozione che non puntava solo su un principio etico-morale di condanna della crudeltà e a favore della dignità e dei diritti dell'uomo e umanitari ma chiedeva di esprimere un giudizio politico nel chiedere solidarietà di uno Stato che poi è un'entità politica e giuridica ben definita per la prima volta mi sarei giocata l'astenzione astenzione per incapacità di giudicare la storia israeliano-palestinese e i conflitti che l'hanno contraddistinta se non quello di condanna in senso più ampio ad un principio dell'istrumento della guerra a prescindere astenzione nel giudizio alle scelte politiche che hanno riguardato lo Stato israeliano la Palestina il territorio di Gaza in passato e ora e soprattutto ora che il conflitto si è riacutizzato dopo gli eventi del 7 novembre posso dare un giudizio alla politica? sì quello di un totale fallimento nel riuscire a trovare un punto di equilibrio posso dare un giudizio alla politica ma non un giudizio politico questa nuova versione della mozione si sfronda di tutte le questioni politiche e guardando all'etica e alla morale accende i riflettori sui principi di tolleranza ed ogni forma di religione sui principi di tolleranza ed ogni forma di religione ci riconduce ai principi sanciti dalle Nazioni Unite sui diritti umanitari e al diritto internazionale umanitari che limita l'uso della violenza durante uno stato di guerra al fine di proteggere i civili e tutti coloro che non ne prendono parte ricordo che Israele è firmatario della convenzione di Ginevra del 49 e la Palestina la cui qualifica di stato è controversa sia la convenzione del 49 che i protocolli del 77 se supponiamo se supponiamo che Gad dopo il ritiro di Israele del 2005 faccia parte dello stato palestinese tali strumenti vincolerebbero anche Hamas come Al-Fatah supposizioni controverse in sole queste mie righe che riportano dati storici però ci fanno capire quanto poco chiari siano la questione israeliano-palestinese dal punto di vista storico e politico non lo dico solo io ma chi di storia se ne intende più di me e le vicende le ha studiate inutile indicarvi quali diritti umani e quali umanitari aggravati dalla comunità sono stati violati in questo conflitto da entrambe le parti dalla presa degli ostaggi per rivendicare i diritti alla tortura all'uccisione di civili molti dei quali bambini al blocco navale che invidisce i rifornimenti all'attacco agli ospedali ancora oggi nonostante l'evidenza che la storia ci ha lasciato e cioè che la guerra in nome di una diversa distribuzione del potere porta solo distruzione odio e morte ci sono ancora 59 conflitti in atto sul nostro territorio mondiale ci sono momenti che penso che l'uomo non imparerà mai dall'altra parte come costituente di una forza politica devo mantenere la fiducia nell'uomo e la convinzione che un cambiamento è sempre possibile questa mozione si appella al senso di umanità all'empatia all'essere vicino a chi soffre pone fiducia nella facoltà che l'uomo possiede ragione e sentimento per una possibile pace pertanto e questo lo aggiungo anch'io che ringrazio sempre tutti ringrazio veramente le forze di minoranza per aver colto nella conferenza di capogruppo la sensibilità di quelle osservazioni nel capire che quel tipo di testo forse ci avrebbe messo in difficoltà nel votarlo e aver avuto la sensibilità della capacità di accogliere anche se la discussione è stata molto breve per arrivare al mociolo di un testo condiviso ci troviamo spesso su posizioni contrapposte ma oggi guardiamo agli stessi principi e nella stessa direzione che quella di sostegno del diritto della pace e ci riconduce così questo lo dico io a essere uniti intorno ai valori della nostra Costituzione grazie ci sono altri interventi prego consigliere Bose grazie allora io avevo fatto l'intervento più corposo in capigruppo e avevo anticipato le motivazioni per cui la bozza di mozione che era stata presentata in quella sede non avrebbe trovato la mia condivisione anzi avrebbe trovato il mio voto contrario avevo anche cercato di mi ero riservato ovviamente di cercare di motivare meglio questo avevo preparato due interventi molto corposi che vi risparmio perché non sono non hanno più senso di esistere perché la nuova versione di questa mozione ha una forma che personalmente non credevo che sarebbe stato possibile raggiungere quindi lo ammetto perché anche in capigruppo avevo detto è molto improbabile che si troverà una forma per questa mozione che davvero sia condivisibile senza svuotarla di significato il punto di partenza era molto molto distante e quindi vi ringrazio perché non me lo aspettavo davvero che sarebbe stato davvero colto e anche accettato il mio il nostro appunto relativamente al al focus che secondo secondo me mi continuo a dirlo secondo me era sbagliato sulle forze politiche e militari in campo soprattutto perché aveva un taglio piuttosto limitato come punto come punto di vista e potenzialmente dannoso ma invece ha posto l'attenzione solo ed esclusivamente sulle persone coinvolte in quanto persone ringrazio anche perché avete scelto di portare un testo senza voler porre un simbolo politico con probabilmente con la speranza che comunque nonostante le premesse il testo iniziale noi avremmo accolto questa questa nuova versione cosa che anticipo per quanto mi riguarda il nostro gruppo farà e anche aggiungo soltanto come già ricordato da gemello tramite brignolo ricordo l'Italia in generale ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali della Costituzione e quindi idealmente questo messaggio mi auguro che poi venga esteso perlomeno nelle nostre intenzioni a tutti davvero i conflitti e non soltanto quelli che ci sembrano più vicini detto ciò davvero complimenti e grazie per averci portato questo testo che ha una forma pienamente condivisibile grazie consigliere Bosio ci sono altri interventi prego il consigliere Abrile grazie allora questo testo è stato presentato senza simboli senza firme la firmata al consigliere Oliva perché qualcuno doveva firmarla digitalmente vuole essere a politica partitica a tutto e vi svello un segreto sono le parole di Paolo Francesco da auspichiamo in giù non credo che ci denunci per i diritti d'autore abbiamo copiato una sua dichiarazione abbiamo cercato di scriverla in maniera tale che non avesse nessun riferimento politico partitico né che prendesse le parti dell'uno dell'altro e alla fine c'è venuta questa idea leggendo le parole di Paolo Francesco ecco perché è così perfetta la scritta lui grazie grazie prego consigliere Zanello mi associo al ringraziamento per questo intervento della minoranza e per aver sollevato un problema enorme il problema di questa guerra a fronte del quale i nostri problemi di Alpiniana e quelli su cui polemizziamo passano in secondo piano per capire il background di questa situazione ci vorrebbe un'analisi storica che io non sono in grado di fare e quindi anche per questo ringrazio sarebbe stato complicato fare una mozione che entrava in questo merito per cui ottima la scelta che avete fatto perché così riusciamo a fare una mozione semplice condivisa io mi limito a raggiungere tre segnalazioni di cui due citazioni sono oltre di stessa personalmente dico solo che ho conosciuto musulmani ebrei cristiani gli ebrei in particolare mi ricordo che tanti anni fa un amico ebreo aveva detto ben prima di questa guerra noi abbiamo l'ansia perché non abbiamo una patria avere Israele dopo tutto quello che è successo nella guerra passata la Shoah per noi è un'ansia e quindi capisco questa ansia nella mozione non parliamo di Israele ne parliamo di popoli però c'è anche Israele e Israele nasce per tutta una serie di problemi personali che hanno vissuto gli ebrei aggiungo che sono gli stessi problemi dell'Iliana Segre che noi abbiamo che abbiamo preso ma abbiamo conferito la cittadinanza onoraria l'Iliana Segre denuncia da una vita e continua a farlo con sempre più fatica perché vede che i problemi ritornano dopodiché gli ebrei hanno sofferto molto come popolo e purtroppo i segni di queste sofferenze si vedono e si vedono anche in certi comportamenti dello Stato europeo non vado oltre citerei solo però il segretario Guterres dell'ONU segretario generale dell'ONU che dice è condannato inequivocabilmente gli orribili e senza precedenti atti terroristici compiuti da Hamas e di Israele e Sepertori è importante riconoscere anche che gli attacchi di Hamas non sono avvenuti da nulla il popolo palestinese è stato sottoposto da anni di soppocante occupazione poi le persone sono state spollate e le loro case demolite non vogliamo entrare nel nel problema perché è un ginepraio il limite a questo Papa Francesco diceva ancora come un'altra citazione entrambe le comunità soffrono interessante siamo andati oltre le guerre siamo al terrorismo l'unica maniera per uscire nel dialogo di cui li invito a pregare sia per il popolo palestinese che per il popolo israeliano per che venga la pace grazie grazie ci sono altri interventi prego la consigliera Clemente si sente oggi purtroppo in questo consiglio comunale vengono messi in evidenza problemi che segnano negativamente in maniera importante le nostre vite e soprattutto quelle delle nuove generazioni che ogni giorno sentono parlare di violenza e di ogni genere sono convinta però che attraverso la continua formazione informazione iniziative varie campagne di sensibilitazione i nostri giovani sui vari temi influenti sul nostro futuro ma soprattutto sul loro daranno contributi sorprendenti comunque ora mi soffermo sulla mozione presentata condivisa da tutti questa guerra è frutto di odi storici su cui è difficile dare la giusta lettura ma sui sentimenti d'odio è giusto dare un proprio parere l'antisionismo l'antisemitismo l'antiebraismo sono parole a cui ormai ci siamo abituati ma che dietro nascondono un mondo di pensieri parole azioni indifferenza che ora la luce di quanto accaduto sul nascere di questa nuova esplosione di violenza sulla striscia di Gaza riaffiorano in maniera concreta e preoccupante anche intorno a noi quanto accaduto il 7 ottobre ha scatenato un'ondata di parole specie online su varie piattaforme social simboli e atti antisemiti in tutto il mondo dagli USA all'exurs passando per l'Europa la Germania la Francia l'Olanda l'Inghilterra e anche da noi a Milano a Roma la distruzione delle recenti pietre d'inciampo la profamazione dei cimiteri la parola d'ordine nei cortei sono certamente antisemitismo e prendono la forma dell'antisemitismo ci auguriamo che a Gaza ci sia una tregua umanitaria per evitare troppi morti nella popolazione e che Hamas venga sconfitta per il bene di tutti i civili innocenti coinvolti varie sono state le azioni nei paesi europei per fermare tutte le manifestazioni d'odio antisemita che continuano a divulgarsi oltre la guerra in atto per fare un esempio la Community Security Trust un ente di beneficenza che aiuta gli ebrei nel Regno Unito ha registrato 89 episodi di odio antiebraico dal 7 al 10 ottobre segnando un aumento del 324% rispetto ai 21 episodi di antisemitismo registrati nello stesso periodo dell'anno scorso ricordo ricordo che in data 5 ottobre 2021 nasce un accordo tra i paesi europei intitolato strategia dell'Unione Europea per combattere l'antisemitismo e sostenere la vita ebraica e punta a realizzare entro il 2030 tre grandi obiettivi prevenire ogni manifestazione di odio e disprezzo antiebraico proteggere e incoraggiare la vita delle comunità israelitiche nella Unione Europea promuove l'attività di ricerca istruzione e commemorazione dell'olocausto in 28 pagine si descrive un apprezzabile programma decennale per procedere verso un'Unione Europea libera dall'antisemitismo ora dopo quanto sta succedendo quel piano strategico ha bisogno più che mai di essere attuato data l'impressionante ondata di attacchi e de manifestazioni non solo contro lo Stato di Israele ma contro tutti gli ebrei messi in discriminazione discriminatamente nel mirino in quanto tali facendo così tornare di triste attualità il monito di Primo Levi sulla Shoah citato a conclusione del documento della Commissione di Bruxelles è avvenuto quindi può accadere di nuovo l'intera società europea non soltanto le sue istituzioni deve continuare in questa linea senza cedere mai alla stanchezza o peggio alla rassegnazione la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato oggi ci impegniamo a sostenere la vita ebraica in Europa in tutta la sua diversità vogliamo che la vita ebraica torni a prosperare nel cuore delle nostre comunità come giusto che sia la strategia che presentiamo oggi rappresenta una svolta decisa nella nostra risposta all'antisemitismo l'Europa può prosperare soltanto se le sue comunità ebraiche si sentono sicure e prosperano Margherita Schinas Vice Presidente della Promazione dello Stile di Vita Europeo ha aggiunto l'antisemitismo è incompatibile con i valori europei con il nostro Stile di Vita Europeo questa strategia la prima del suo genere manifesta il nostro impegno a combattere questo fenomeno in tutte le sue forme e garantire un futuro per la vita ebraica in Europa e altrove lo dobbiamo a coloro che sono morti nell'olocausto lo dobbiamo ai sopravvissuti e lo dobbiamo alle generazioni future l'Unione Europea utilizzerà tutti gli strumenti disponibili per invitare i paesi partner a contrastare l'antisemitismo nel vicinato dell'Unione Europea e oltre anche attraverso la cooperazione con le organizzazioni internazionali assicurerai che i fondi esterni dell'Unione Europea non possano essere indebitamente assegnati ad attività che incitano all'odio e alla violenza anche nei confronti degli ubrei l'Unione Europea rafforzerà la cooperazione con Israele nella lotta contro l'antisemitismo e promuoverà il rilancio del patrimonio ebraico in tutto il mondo molti dei settori in azione connessi alla lotta contro l'antisemitismo sono principalmente di competenza nazionale tuttavia l'Unione Europea svolge un ruolo importante nel fornire orientamenti politici coordinare le azioni degli stati membri monitorare l'attuazione e i progressi fornire sostegno attraverso i fondi dell'Unione Europea e promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli stati membri a tale fine la commissione trasformerà l'attuale gruppo di lavoro sulla lotta dell'antisemitismo in una struttura permanente che riunirà gli stati membri e le comunità ebraiche per questo mi auguro che tale impegno veda un vero sviluppo anche nel nostro Stato e per quanto competa a noi qui presenti anche nel nostro Comune e che questo lavoro nel tempo aiuti i popoli a rivedere cosa aiuta davvero l'umanità a devolversi volgo un affettuoso saluto alla nostra cittadina onoraria Liliana Segre invitandola a continuare a dare la sua preziosa testimonianza alle nuove generazioni convinta e certa e certa che il seme buono porta sempre frutti buoni grazie grazie consiglia Clemente ci sono altri interventi dichiarazioni di voto possiamo procedere con la votazione Palmieri Clemente favorevole Leonardo Zanello Brignolo Cipriano favorevole Baldi Bossio favorevole Sciuto favorevole Albrile favorevole Martino Gaeta dodici presenti dodici voti favorevoli consiglio approva la proposta di delibera si vota per l'immedia niente allora prima di terminare la seduta ho da fare una comunicazione legata al prossimo consiglio comunale no dato che dicembre fine dicembre abbiamo sono tutte sempre cariche di impegni volevo comunicare delle scadenze appunto legate al prossimo consiglio in modo che possiate programmare i vostri tutti i vostri impegni giovedì 21 dicembre alle ore 18 si terrà il consiglio comunale il cui argomento principale sarà l'approvazione del bilancio previsionale 2004-2026 ripeto giovedì 21 dicembre ore 18 legato a questo consiglio ci sarà martedì 12 dicembre alle ore 18 in videoconferenza una conferenza HP gruppo in cui sarà estesa tutti i consiglieri in quanto ci sarà la presentazione tecnica da parte della dottoressa Ruggero del bilancio previsionale ripeto martedì 12 dicembre alle ore 18 lunedì 18 dicembre alle ore 21 si terrà la commissione finanze in videoconferenza ripeto lunedì 18 dicembre ore 21 un altro impegno sarà quella della commissione tecnica che sarà giovedì 14 dicembre alle ore 18 30 in presenza con questo ho finito auguro tutti una buona serata